Capitolo 17 Passò una settimana e non si ebbe alcuna notizia del signor Rochester. Dieci giorni e ancora non lo si vide. La signora Fairfax disse non si sarebbe meravigliata se lui si fosse trasferito direttamente da Elias a Londra e da Londra nel continente e non si fosse fatto vedere a Thornfield per un anno intero. Era capitato altre volte che lasciasse Thornfield in modo così improvviso e inaspettato. Nel sentire questo cominciai a provare una strana stretta al cuore. Mi abbandonavo in verità ad un doloroso senso di delusione, ma ha fatto appello al mio coraggio e ai miei principi, richiamai immediatamente all'ordine i miei sentimenti, e fu davvero straordinario come superai quell'errore passeggero, come uscì dallo sbaglio di immaginare che i movimenti del signor Rochester potessero avere per me un interesse vitale. Non mi umiliavo certo con un servile senso di inferiorità, al contrario mi dicevo. Tu non hai altro a che vedere col padrone di Thornfield che lo stipendio che ti paga per l'insegnamento alla sua pupilla, e la sua gratitudine per quel rispetto e quella gentilezza, che hai d'altro canto il diritto di aspettarti se fai il tuo dovere. Sta certa che questo è il solo legame che lui riconosce fra voi due. Non farlo oggetto del tuo amore, delle tue estasi, delle tue sofferenze, o di niente di simile. Non sei del suo stesso rango. Rimani nella tua casta, abitando rispetto di te da non prodigare l'amore di tutto il tuo cuore, e la tua anima e la tua forza, a qualcuno che non gradirebbe il tuo dono e lo disprezzerebbe. Continuavo tranquillamente i miei compiti quotidiani, ma di tanto in tanto mi attraversava la mente un incerto pensiero di abbandonare Thornfield, e inconsapevolmente continuavo a preparare nuovi annunci e a fare congetture su nuovi posti di lavoro. Pensieri che non ritenevo necessario tenere a freno, all'occorrenza avrebbero germogliato e dato frutti. Il signor Rochester era assente da più di quindici giorni, quando la signora Fairfax ricevette una lettera. «E' del padrone», disse guardando l'indirizzo. «Ora sapremo se dobbiamo o no aspettare il suo ritorno». Mentre lei spezzava il sigillo e leggeva, continuai a bere il caffè, eravamo a colazione. Era caldo, e a questo attribuì il vivo rossore che mi salì improvvisamente al viso. Perché la mia mano tremava, perché rovesciai involontariamente metà tazzina sul piatto, preferì non chiedermelo. «Bene, qualche volta penso che viviamo troppo tranquilli, ma ora avremo l'opportunità di avere parecchio da fare, per qualche tempo almeno», disse la signora Fairfax tenendo ancora il foglio davanti agli occhi. Prima di concedermi una richiesta di spiegazione, legai la cintura del grembiolino di Adele che si era allentata, le diedi un'altra ciambellina, le riempì la tazza di latte, poi chiesi con indifferenza. «Il signor Rochester immagino non tornerà presto». «Al contrario, sarà qui fra tre giorni, giovedì prossimo, e non verrà solo. Non so quante persone verranno con lui da Elias, ma ha mandato ordini perché siano preparate tutte le camere migliori e siano puliti il salotto e la biblioteca. Devo cercare aiuti in cucina alla locanda di Milcott o dovunque possa trovarli. Gli ospiti porteranno cameriere e camerieri e la casa sarà piena». E la signora Fairfax finì la colazione e si affrettò a cominciare i preparativi. Come lei aveva immaginato, i tre giorni seguenti furono molto impegnati. Mi sembrava che tutte le stanze di Thornfield venissero pulite e ordinate. Evidentemente mi sbagliavo. Furono chiamate in aiuto tre donne e non avevo mai visto, né ho più visto in vita mia, strofinare tanto e spolverare e lavare le pareti e battere i tappeti e tirare giù e rimettere su i quadri e lucidare gli specchi e i lampadari e accendere il fuoco nelle stanze e dare aria alle lenzuola e ai materassi, come ho visto fare in quei giorni. In mezzo a quello scompiglio, Adele si sfrenava liberamente. I preparativi e la prospettiva dell'arrivo della comitiva la affascinavano. Voleva che Sophie esaminasse tutte le sue toilette, come chiamava gli abiti, rinnovasse quelle che erano passé e mettesse bene in ordine quelle nuove. Quanto a lei, non faceva che correre e giocare nelle stanze sulla facciata, saltare su e giù dai letti e sdraiarsi sui materassi, coperte e cuscini, ammucchiati davanti ai grandi fuochi che ardevano nei camini. Era stata esentata dai doveri scolastici. La signora Fairfax mi aveva infatti arruolato al suo servizio, ed io stavo tutto il giorno in dispensa, aiutando, o intralciando, lei e la cuoca, imparando a fare budini e focacce al formaggio e pasticceria, a preparare la selvaggina e a guarnire i piatti del dessert. Gli invitati erano attesi giovedì pomeriggio, in tempo per pranzare alle sei. Nei giorni precedenti non ebbi il tempo di inseguire chimere e credo di non essere stata meno allegra e affaccendata degli altri, con l'eccezione di Adele. Pure, di tanto in tanto, la mia allegria riceveva una doccia fredda, e venivo risospinta, mio malgrado, nella zona dei dubbi e dei presentimenti e delle tristi congetture. Accadeva quando vedevo aprirsi lentamente la porta delle scale al terzo piano, che di recente veniva sempre tenuta chiusa, e ne usciva Grace Pool, nella sua cuffietta a modo, il grembiule e il fazzoletto bianco, quando la guardavo scivolare nella galleria, i passi attutiti dalle pantofole di panno. Quando la vedevo affacciarsi nelle camere da letto, tutte sottosopra e piene di attività. Dire magari una parola alle donne aggiornata sul modo di lucidare la griglia, o di pulire la mensola del camino, o di smacchiare la carta da parati, e poi proseguire. Scendeva in cucina una volta al giorno, pranzava, fumava una piccola pipa davanti al focolare e risaliva, portandosi un boccale di birra come conforto nella sua tetra tana. Delle ventiquattro ore della giornata ne trascorreva una soltanto con gli altri domestici. Le altre ore le passava in qualche stanza bassa, rivestita di quercia, al terzo piano. Stava là a cucire sola, come una prigioniera in una torre. La cosa più strana era che nessuno in casa, oltre me, notava le sue abitudini o sembrava meravigliarsene. Nessuno parlava della sua situazione o delle sue occupazioni, nessuno compativa il suo isolamento e la sua solitudine. Una volta, è vero, sorpresi una conversazione a proposito di Grace Pool tra Lea e una donna aggiornata. Lea aveva detto qualcosa che non afferrai, e la donna rispose, è pagata bene, immagino. Sì, disse Lea, vorrei essere pagata io altrettanto. Non intendo lamentarmi, a Thornfield non sono certo avari, ma il mio salario non è neanche un quinto di quello che prende la signora Pool. E poi lei risparmia, e ogni settimana lo deposita alla banca di Milcott. Non mi meraviglierei se avessi accumulato tanto da poter essere indipendente, se volesse andarsene. Ma immagino si sia abituata al posto, e poi non ha ancora 40 anni ed è robusta e può fare qualsiasi cosa. È troppo presto perché smetta di lavorare. Sì, è brava, immagino, annui la donna aggiornata. Ah, capisce bene che cosa deve fare, nessuno lo capisce meglio di lei, aggiunse Lea in tono significativo. E mica tutti saprebbero fare quello che fa lei, neanche per tutti i soldi che prende. Proprio così, mi chiedo se il padrone è. La donna avrebbe continuato, ma Lea a questo punto si voltò e mi vide, e immediatamente diede il gomito alla compagna. Non lo sa? Sentì sussurrare la donna. Lea scosse la testa, e la conversazione venne interrotta. Mi aveva rivelato soltanto che a Tornfield c'era un mistero, e che io ne ero esclusa. Arrivò il giovedì. Tutti i preparativi erano stati portati a termine la sera prima. I tappeti distesi, le tende appese, spiegate sopra coperte bianche come la neve, sistemati i tavolini da toletta, lucidati i mobili, disposti i fiori nei vasi. Le camere da letto e le sale erano pulite e luminose al massimo. Anche l'atrio era stato tirato a lucido. La grande pendola scolpita e i gradini e la ringhiera della scalinata brillavano come specchi. Sulla credenza della sala da pranzo l'argenteria risplendeva, e in tutti gli angoli del salotto e del boudoir c'erano vasi di fiori esotici. Venne il pomeriggio. La signora Fairfax indossò il suo abito migliore di raso nero, mise i guanti e l'orologio d'oro, toccava a lei ricevere gli ospiti, accompagnare le signore nelle loro stanze, eccetera. Anche Adele voleva essere vestita, benché fosse a mio avviso poco probabile che venisse presentata agli invitati, almeno quel giorno. Tuttavia, per farle piacere, permise a Sophie di metterle un suo abito di mussola. Quanto a me, non dovevo fare cambiamenti. Non sarei stata invitata a lasciare il mio rifugio, perché lo studio era diventato per me un rifugio, un rifugio gradito nel tempo dell'angoscia, come dice il salmista. Quel giorno di primavera era stato mite e sereno, uno di quei giorni, verso la fine di marzo o il principio di aprile, che sorgono sulla terra come heraldi dell'estate. Era ormai il tramonto, ma la sera era calda, ed io sedevo a lavorare nello studio con la finestra aperta. Si fa tardi, disse la signora Fairfax entrando in un maestoso fruscio di sete. Sono contenta di aver ordinato il pranzo un'ora più tardi di quel che aveva detto il signor Rochester. Sono già le sei passate. Ho mandato John al cancello a guardare se si vede qualcuno sulla strada. Si può vedere per un bel tratto in direzione di Milcott. Andò alla finestra. Eccolo, John, sporgendosi. Ci sono novità? Stanno venendo, signora, fu la risposta. Saranno qui fra dieci minuti. Adel volò alla finestra. Io la seguì, badando di restare da una parte, nascosta dalla tenda, per vedere, senza essere vista. I dieci minuti annunciati da John sembrarono molto lunghi, ma alla fine si udì il rumore delle ruote. Quattro persone salivano il viale a cavallo. Le seguivano due carrozze aperte. Un fluttuare di veli e un odeggiare di piume riempivano i veicoli. Due dei cavalieri erano giovani gentiluomini dall'aspetto elegante e attraente. Il terzo era il signor Rochester in sella a Mestru, il suo morello, preceduto da Pilot che saltava davanti al cavallo. Al suo fianco cavalcava una donna che insieme a lui faceva da avanguardia. La sua amazzone scarlatta sfiorava il terreno, il lungo velo fluttuava al vento. Tra le pieghe trasparenti splendevano folti ricci corvini. «La signorina Ingram!» esclamò la signora Fairfax e corse giù a ricevere gli ospiti. Seguendo la curva del viale, la cavalcata girò l'angolo della casa ed io la persi di vista. Adel mi pregò di lasciarla scendere, ma io la presi sulle ginocchia e le spiegai che non doveva per nulla al mondo azzardarsi a comparire davanti alle signore. Adesso o in qualunque altro momento, se non veniva esplicitamente chiamata. Che il signor Rochester sarebbe andato molto in collera, eccetera. Lei versò, come era naturale, qualche lacrima alle mie parole, ma vedendo che mi facevo molto seria acconsentì ad asciugarle. Nell'atrio si sentiva ormai un'allegra confusione. Le voci profonde degli uomini e i toni argentini delle signore si fondevano armoniosamente. E fra tutte si distingueva, sebbene il tono non fosse alto, la voce sonora del padrone di Thornfield, che accoglieva sotto il suo tetto le belle ospiti e gli eleganti invitati. Poi passi leggeri salirono la scala, e si sentì uno scalpiccio nella galleria, e risatine soffocate, e aprire e chiudere porte, e infine silenzio. «Elle change de toilette», disse Adele, che ascoltando attentamente aveva seguito ogni loro movimento, e sospirò. «Che maman», aggiunse, «quand il y avait du monde, je le suivais partout, au salon et à leur chambre. Souvent je regardais les femmes de chambre coiffer e habillé les dames, e c'était si amusant. «Comme cela on apprende? Hai fame, Adele?» «Mais oui, mademoiselle, voilà cinq ou six heures que nous n'avons pas mangé». Allora, mentre le signore sono nelle loro stanze, mi arrischierò ad andare a prendere qualcosa da mangiare. E uscita cautamente dal mio rifugio, raggiunsi la scala di servizio, che portava direttamente in cucina. Vi regnavano il calore del fuoco e una grande eccitazione. La minestra e il pesce erano nella fase finale della preparazione, e la cuoca era curva sui suoi crogiuoli in uno stato fisico e morale che minacciava l'autocombustione. Nell'anticucina sedevano attorno al fuoco due cocchieri e tre camerieri personali degli invitati, poiché le cameriere, probabilmente, erano di sopra con le padrone. I servitori aventizi, che erano stati assunti a Milcott, si davano un gran da fare dappertutto. Attraversando quel caos, raggiunsi finalmente la dispensa. Mi impossessai di un pollastrino freddo, di una treccia di pane e di alcune focaccine, di piatti e posate. Munita del mio bottino, feci una precipitosa ritirata. Ero tornata nella galleria e mi stavo richiudendo la porta alle spalle, quando un parlottare indistinto mi annunciò che le signore stavano uscendo dalle loro stanze. Non potevo raggiungere lo studio senza passare davanti alle loro porte e senza correre il rischio di essere sorpresa con il mio carico di vettovaglie. Così rimasi nel punto in cui ero, in fondo alla galleria, dove non c'erano finestre ed era buio, molto buio ormai perché il sole era tramontato e si avvicinava il crepuscolo. Presto le stanze restituirono una dopo l'altra le loro belle occupanti. Ognuna di loro usciva aggaiamente, con un passo leggero, e i loro vestiti rilucevano nella penombra. Per un momento rimasero in gruppo all'altro capo della galleria, conversando sommessamente, con dolce vivacità. Poi scesero le scale, silenziose come una nebbia lucente che scende lungo il fianco di una collina. Il loro aspetto mi aveva lasciato in complesso una sensazione di aristocratica eleganza che non avevo mai conosciuto prima. Trovai Adele che spiava dalla porta socchiusa dello studio. Che belle signore! Esclamò in inglese. Oh, vorrei poter andare da loro. Credete che il signor Rochester ci manderà a chiamare dopo pranzo? No, non credo. Il signor Rochester ha altro da pensare. Non pensare alle signore questa sera, forse le vedrai domani. Ecco il pranzo. Aveva davvero fame e il pollastrino e le focacce servirono a distrarla per qualche tempo. Avevo fatto bene a portare quel cibo, altrimenti sia noi due che Sophie, a cui portai una parte del nostro pasto, avremmo corso il rischio di saltare il pranzo. Tutti giù erano troppo affaccendati per pensare a noi. La frutta non fu servita se non dopo le nove e alle dieci i camerieri accorrevano ancora su e giù con i vassoi del caffè. Permisi ad Adele di rimanere alzata più tardi del solito, poiché affermava che le era impossibile prendere sonno finché da basso le porte continuavano ad aprirsi e a chiudersi e la gente a camminare. E poi, aggiunse, poteva sempre arrivare un messaggio dal signor Rochester quando lei era già svestita. E allora che il dommage! Le raccontai favole finché ebbe voglia di sentirle. Poi, per cambiare, uscimmo nella galleria. L'atrio era illuminato e Adele si divertì a guardare dalla balaustra la neri vieni dei domestici. Quando la sera era già avanzata, dal salotto dove era stato trasportato il pianoforte salì una musica. Io e Adele scendemmo sulle scale in ascolto. Poi una voce si unì al suono del pianoforte, una voce femminile che cantava con molta dolcezza. Concluso l'assolo, vi fu un duetto e poi un coro. Le pause erano riempite dall'allegro mormorio della conversazione. Rimasi ad ascoltare a lungo. Ad un tratto scoprì che le mie orecchie erano intente soltanto a distinguere, tra le voci, quella del signor Rochester. E dopo averla riconosciuta, il che accade subito, a trasformare i suoni, che la distanza rendeva confusi, in parole. La pendola batte le undici. Guardai Adele, che aveva la testa abbandonata sulla mia spalla. Gli occhi le si erano chiusi. Così la presi in braccio e la portai a letto. Era quasi l'una quando gli ospiti si ritirarono nelle loro stanze. Il giorno dopo fu bello come il precedente. La comitiva progettò una gita nei dintorni. Partirono la mattina presto, alcuni a cavallo, gli altri in carrozza. Io assistetti alla partenza e al ritorno. Come il giorno prima, la signora Ingram era la sola donna che cavalcasse. E come il giorno prima, il signor Rochester le galoppava a fianco. Cavalcavano entrambi un po' lontani dagli altri. Lo feci notare alla signora Fairfax, che era alla finestra con me. Dite che non è probabile che si sposino, osservai. Ma vedete pure che il signor Rochester la preferisce alle altre donne. Sì, immagino di sì. Senza dubbio la ammira. E lei lo ammira, aggiunsi. Guardate come si china verso di lui, come se gli parlasse confidenzialmente. Vorrei poterla vedere in viso, ancora non ne ho avuto occasione. La vedrete questa sera, rispose la signora Fairfax. Ho fatto notare al signor Rochester quanto ad elle desideri essere presentata alle signore. E lui mi ha detto, oh, può venire in sala dopo pranzo. E chiedete alla signorina Eire di accompagnarla. Lo avrà detto per pura cortesia. Non sarà necessario che io vada, ne sono certa. Risposi. Vedete, gli ho fatto osservare che non essendo abituata alla compagnia, non vi avrebbe forse fatto piacere trovarvi in mezzo a tutti quegli estranei. E lui ha risposto bruscamente come sempre. Sciocchezze. Se fa obiezioni, ditele che è mio espresso desiderio. E se persiste, aggiungete che salirò io a prenderla se non viene. Non gli darò questa seccatura, ribattei. Andrò se non posso evitarlo, ma non mi fa piacere. Voi verrete, signora Fairfax? No. Ho chiesto di essere scusata e lui ha consentito. Sentite come potrete evitare di fare un ingresso ufficiale che è la cosa più sgradevole. Entrate in salotto mentre non c'è nessuno, prima che le signore si alzino da tavola. Estedetevi quietamente in un angolo. Non dovete rimanere a lungo dopo l'ingresso degli uomini, a meno che non lo desideriate. Date soltanto il tempo al signor Rochester di vedere che ci siete e poi andatevene discretamente. Nessuno se ne accorgerà. Credete che gli ospiti rimarranno a lungo? Forse due o tre settimane, ma non di più. Dopo le vacanze pasquali, Sir George Lynn, che è stato eletto di recente deputato per Milcott, dovrà andare a Londra per presenziare alle sedute parlamentari. Penso che il signor Rochester lo accompagnerà. Mi sorprende che si sia fermato tanto a lungo a Thornfield. Vidi arrivare con una certa trepidazione l'ora in cui dovevo andare in salotto con la mia allieva. Adele era stata in estasi tutto il giorno, sapendo che la sera sarebbe stata presentata alle signore, e non si calmò finché Sophie non cominciò a vestirla. Allora l'importanza di quel procedimento la rese più tranquilla. Appena ebbe i capelli ben ravviati e pettinati in lunghi boccoli, il vestito di raso rosa addosso, la lunga cintura allacciata e i guantini di pizzo infilati prese un aspetto molto solenne. Nessuno dovette raccomandarle di fare attenzione al vestito. Si mise a sedere quieta quieta, attenta a sollevarsi la gonna, e mi assicurò che sarebbe rimasta immobile finché io non fossi stata pronta. Non mi ci volle molto. In un momento infilai il mio vestito migliore, quello di setà grigio-argento comprato per le nozze della signorina Temple e non più indossato. Mi pettinai in un momento, in un momento appuntai il mio solo gioiello, la spilla di perle. E scendemmo. Fortunatamente il salotto aveva un altro ingresso oltre quello della sala dove gli ospiti pranzavano. Era vuoto. Un gran fuoco bruciava silenziosamente nel cammino di marmo e le candele di cera ardevano in splendente solitudine tra i fiori incantevoli che ornavano i tavoli. La tenda rossa davanti all'arco era abbassata. Per quanto fosse leggero lo schermo che isolava la compagnia riunita nella sala adiacente, parlavano tutti così piano che non si sentiva nulla della loro conversazione se non un quieto mormorio. Adel, sempre sotto l'influsso di una circostanza che la rendeva molto solenne, sedette senza parlare sullo sgabello che le indicai. Io mi rifugiai in uno dei sedili delle finestre, presi un libro e mi studiai di leggere. Adel trascinò lo sgabello ai miei piedi, poi mi tocco il ginocchio. Che cosa c'è, Adel? Est-ce que je ne puis pas prendre une seule de ces flors magnifiques, mademoiselle, seulement pour completer ma toilette? Direi che tu pensi troppo alla tua toilette, Adel, ma te lo permetto. Presi una rosa e gliela appuntai alla cintura. Lei diede in un sospiro di ineffabile soddisfazione, come se la coppa della sua felicità fosse ormai colma. Distolsi il viso per nascondere un sorriso che non potei reprimere. C'era qualcosa di grottesco edipenoso nel culto ardente e innato della piccola parigina per i vestiti. Si sentì un rumore leggero. Qualcuno si alzava. La cortina fu sollevata e apparve la sala da pranzo in cui il lampadario rovesciava un fiume di luce sull'argenteria e sui cristalli del magnifico servizio da dessert, con cui era apparecchiata la lunga tavola. Un gruppo di signore si riunì sotto l'arco. Entrarono e la cortina ricadde alle loro spalle. Erano solo otto, ma non so come, mentre entravano sembravano molto di più. Alcune erano alte, molte vestite di bianco, e negli abiti c'era una ricchezza vaporosa che sembrava ingrandire la loro persona come l'alone di nebbia ingrandisce la luna. Mi alzai e feci la riverenza. Una o due risposero con un leggerezza e la grazia dei loro movimenti mi ricordava uno stuolo di uccelli bianchi. Alcune si sdraiarono a mezzo sui divani, alcune si chinarono sui tavoli ad esaminare fiori e libri, le altre si raccolsero attorno al fuoco. Parlavano tutte in un tono basso e chiaro che sembrava fosse abituale per loro. In seguito seppi i loro nomi, così ora posso presentarle. Prima di tutte, la signora Ashton, con due delle figlie. Doveva essere stata una bella donna ed era ancora ben conservata. Delle figlie, la maggiore, Amy, era piuttosto piccola, ingenua e poerile di viso e di modi, con una figura attraente. L'abito di mussola bianca con la cintura azzurra le donava molto. La seconda, Luisa, era più alta e aveva una figura più elegante, con un visetto grazioso di quelli che i francesi chiamano Minoua Chifonné. Entrambe le sorelle erano chiare come gigli. Lady Lynn era una donna grassa e robusta sulla quarantina, perfettamente eretta, molto altera, in un ricco vestito di raso cangiante. Un cerchio di gemme, all'ombra di una piuma azzurra, le cingeva i lucenti capelli scuri. La moglie del colonnello Dent era meno vistosa, ma, a mio avviso, più aristocratica. Aveva una figura sottile, un viso pallido e dolce, capelli biondi. L'abito di raso nero, la ricca sciarpa di pizzo e i gioielli di perle mi piacevano più della multicolore e vistosa eleganza della signora titolata. Ma le tre signore che più si distinguevano, in parte forse perché erano le più alte, erano la vedova Lady Ingram con le figlie Blanche e Mary. Tutte e tre, alte e maestose. La vedova poteva essere tra i 40 e i 50 anni ed aveva ancora una bella figura. I capelli, quantomeno visti alla luce della candela, erano ancora neri, i denti perfetti. Molti l'avrebbero definita splendida per la sua età, e tale senza dubbio era, da un punto di vista fisico, ma c'era nel suo contegno un'alterigia quasi insopportabile. Aveva lineamenti classici e un doppio mento che si perdeva in un collo tornito come una colonna. A me i suoi lineamenti sembravano non soltanto dilatati e oscurati dall'orgoglio, ma impastati di orgoglio, e il mento, per lo stesso principio di orgoglio, si sosteneva in una rigidezza quasi preternaturale. Gli occhi non erano meno duri e fieri, mi ricordavano quelli della signora Reed. Sottolineava le parole in modo enfatico, la voce era profonda, il tono molto pomposo, molto categorico. In breve, molto intollerabile. Un vestito di velluto cremisi ed un turbante di seta indiana tessuta d'oro la investivano, così credo pensasse, di un'autentica dignità imperiale. Blanche e Mary erano della stessa natura, dritte e alte come pioppi. Mary era troppo esile per la sua altezza, ma Blanche era modellata come una diana. La guardai, naturalmente, con interesse particolare. Prima per vedere se il suo aspetto corrispondeva alla descrizione della signora Fairfax, poi se assomigliava alla miniatura immaginaria che avevo dipinto di lei. Infine, devo pure confessarlo, per capire se mi sembrasse tale da corrispondere ai gusti del signor Rochester. Per quanto riguardava l'aspetto fisico, corrispondeva punto per punto sia alla miniatura sia alla descrizione della signora Fairfax. Il busto armonioso, le spalle spioventi, il collo aggraziato, gli occhi scuri e i riccioli neri. C'era tutto. Ma il viso? Il viso era come quello della madre, una versione giovane e senza rughe. La stessa fronte bassa, gli stessi lineamenti fieri, lo stesso orgoglio. Un orgoglio, tuttavia, non così cupo. Blanche rideva di continuo, di una risata ironica, come l'espressione abituale delle sprezzanti labbra arcuate. Si dice che il genio ha coscienza di sé. Non potrei dire se la signorina Ingram fosse un genio, ma senza dubbio aveva coscienza di sé. Una notevole coscienza di sé. Intavolò una discussione di botanica con la dolce signora Dent. Quest'ultima, evidentemente, non aveva studiato quella scienza, benché affermasse che le piacevano i fiori, soprattutto quelli selvatici. La signorina Ingram sì, e sfoggiò con orgoglio il suo sapere. Compresi presto che si divertiva dell'ignoranza della signora, il suo gioco poteva essere abile, ma senza dubbio non era benevolo. Si mise al piano, suonava egregiamente, cantò, aveva una bella voce. Parlava francese con la madre, e lo parlava bene, con familiarità e con un buon accento. Mary aveva un viso più dolce e più aperto di Blanche, lineamenti più morbidi e la carnagione molto più chiara. La signorina Ingram era scura come una spagnola, tuttavia mancava di vitalità. Il viso era privo di espressione, lo sguardo privo di vivacità. Non aveva nulla da dire e una volta seduta rimase immobile come una statua nella nicchia. Tutte e due le sorelle avevano abiti bianchi. Pensavo ora che la signorina Ingram rappresentasse una scelta probabile per il signor Rochester? Non potevo dirlo, non conoscevo i suoi gusti in fatto di bellezza femminile. Se gli piaceva una bellezza maestosa, Blanche Ingram ne era l'immagine stessa. Inoltre aveva molti talenti ed era vivace. Molti uomini l'avrebbero ammirata, senza dubbio, e dell'ammirazione di lui già mi sembrava di avere avuto la prova. Mi mancava soltanto di vederli insieme per allontanare l'ultimo dubbio. Non si deve credere che Adele, per tutto quel tempo, sia rimasta immobile sullo sgabello ai miei piedi. No. Quando le signore entrarono si alzò, andò il loro incontro, fece una profonda riverenza e disse solennemente «Bonjour, mesdame!» Blanche Ingram l'aveva guardata con aria ironica e aveva esclamato «Oh, che bamboletta!» Lady Lynn aveva detto «Immagino sia la piccola protetta del signor Rochester, la bambina francese di cui ci ha parlato!» La signora Dent le aveva preso la mano con dolcezza e l'aveva baciata. Amy e Louisa Ashton avevano esclamato all'unisono «Che amore di bambina!» Poi l'avevano fatta mettere sul divano, dove ora sedeva, nascosta tra loro, chiacchierando ora in francese, ora nel suo cattivo inglese, attirando l'attenzione non soltanto delle due sorelle, ma anche della signora Ashton e di Lady Lynn, e facendosi viziare secondo i suoi più arditi desideri. Finalmente venne portato il caffè e si mandarono a chiamare gli uomini. Io siedo nell'ombra, se c'è ombra, in quella sala così splendidamente illuminata. Le tende della finestra quasi mi nascondono. Di nuovo l'arco si spalanca. I signori entrano. Come quello delle signore, l'ingresso collettivo dei signori è molto imponente. Sono tutti in abito da sera, molti di loro alti, alcuni giovani. Harry e Frederick Lynn sono due eleganti belli imbusti. Il colonnello Dent ha una bella figura militaresca. Il signor Ashton, il giudice del distretto, è molto distinto. I capelli bianchi, le sopracciglia e i baffi ancora neri gli danno l'aria di un père noble de théâtre. Lord Ingram, come le sorelle, è molto alto. È bello come loro, ma, come Mary, ha l'aria apatica e inerte. Sembra avere più statura che sangue nelle vene o vivacità intellettuale. Ma dov'è il signor Rochester? Entra per ultimo. Non sto guardando verso l'arco, eppure lo vedo entrare. Cerco di concentrare l'attenzione sui ferri, sulle maglie della borsa che sto lavorando. Voglio pensare soltanto al lavoro che ho in mano, vedere soltanto le perline d'argento e i fili di seta che mi giacciono in grembo. Ma in realtà, guardo la sua figura, e senza volerlo ricordo l'ultima volta in cui l'ho vista. Subito dopo avergli reso quello che egli aveva chiamato un servizio essenziale. Quando, tenendomi stretta la mano e chinando lo sguardo al mio viso, mi fissava con occhi che rivelavano un cuore pieno, traboccante di emozioni delle quali io ero a parte. Quanto gli ero stata vicina in quel momento! Che cosa era accaduto da allora a mutare i nostri rapporti? Come eravamo lontani, estranei ora! Tanto estranei che non mi aspettavo venisse a parlarmi. Non mi meravigliai quando, senza guardarmi, sedetti all'altro capo della stanza e cominciò a conversare con alcune signore. Appena mi resi conto che attiravano tutta la sua attenzione e che potevo guardare senza essere osservata, il mio sguardo si diresse involontariamente al suo volto. Non potei dominare il movimento delle mie palpebre che ostinatamente si sollevarono, permettendo alle pupille di fissarsi su di lui. Guardavo e ne traevo un piacere acuto, un piacere prezioso e pure straziante, oro puro con la punta d'acciaio della sofferenza. Un piacere simile a quello che può provare un uomo morente di sete, consapevole che il pozzo a cui si è trascinato è avvelenato e che tuttavia si china a bere lunghe sorsate di quel nettare sublime. Che la bellezza sia nell'occhio di chi guarda è una grande verità. Il viso pallido, olivastro del mio padrone, la fronte dritta e massiccia, le volte sopracciglia, gli occhi scuri, i lineamenti marcati alla bocca severa, risoluta, energica, volitiva, non erano belli secondo i canoni consueti di bellezza. Ma per me erano più che belli. Avevano per me un interesse, avevano su di me un influsso che mi dominava, che toglieva al mio potere i miei stessi sentimenti e li incatenava al suo. Non era stata mia intenzione guardarlo. Chi mi legge sa quanto avessi combattuto per estirpare dal mio animo i germi dell'amore che vi avevo scoperto. Ed ora, appena lo avevo rivisto, i germi del mio amore risorgevano spontaneamente, vivi e forti. Anche senza guardarmi, mi costringeva ad amarlo. Lo paragonai ai suoi ospiti. Che cos'era la grazia spavalda dei Lynn, la languida eleganza di Lord Ingram, la stessa militaresca distinzione del colonnello dente, vicino all'aspetto di energia, di innata potenza del signor Rochester. Non apprezzavo il loro aspetto e la loro espressione. Tuttavia, supponevo che molti li avrebbero giudicati attraenti, belli, imponenti. Mentre avrebbero definito il signor Rochester un uomo dai lineamenti aspri e dall'aspetto cupo. Li vedevo sorridere, ridere. Non era nulla per me. La luce delle candele possedeva più anima dei loro sorrisi. Il suono del campanello aveva per me più senso delle loro risate. Guardavo invece il sorriso del signor Rochester. I suoi lineamenti si addolcivano, i suoi occhi scuri si animavano e si ingentilivano. Lo sguardo ha un tempo penetrante e dolce. In quel momento parlava con Luisa ed Amy Ashton. Mi meravigliai vedendole accogliere con tanta calma quello sguardo che a me sembrava così penetrante. Mi aspettavo piuttosto che abbassassero gli occhi arrossendo. Tuttavia fui contenta, osservando che non erano emozionate. A loro non fa l'effetto che fa a me, mi dissi. Non è della loro stessa razza. Credo sia della mia. Sì, ne sono certa. Mi sento simile a lui. Capisco il linguaggio della sua fisionomia e dei suoi movimenti, sebbene la classe sociale e la ricchezza ci separino. Nella mia mente e nel mio cuore, nel mio sangue e nei miei nervi, c'è qualcosa che mi unisce spiritualmente a lui. Mi sono detta alcuni giorni fa che non ho nulla a che fare con lui se non ricevere il mio stipendio dalle sue mani. Mi sono proibita di pensare a lui in una luce che non sia quella del mio datore di lavoro. Peccato contro natura. Ogni sentimento buono, sincero, forte che provo, trova il suo centro in lui. So che devo nascondere i miei sentimenti, devo soffocare la speranza, devo ricordare che certo non prova grande interesse per me. Quando dico che sono della sua razza, non intendo dire che ho la forza di influenza che è a lui, il suo magnetismo, ma soltanto che ho in comune con lui certi gusti e sentimenti. Devo dunque ripetere di continuo che siamo separati inesorabilmente. Pure, finché ho respiro e vita, non posso non amarlo. Viene servito il caffè. Dall'arrivo degli uomini le signore sono diventate gaie come all'odole. La conversazione si fa vivace e allegra. Il colonnello Dent e il signor Ashton cominciano a discutere di politica. Le loro mogli ascoltano. Le due orgogliose vedove, Lady Lynn e Lady Ingram, confabulano tra loro. Sir George, che ho dimenticato di presentare, un gentiluomo di campagna, grosso e colorito, è in piedi davanti al loro divano, con in mano la tazzina di caffè e di quando in quando dice una parola o due. Frederick Lynn si è seduto accanto a Mary Ingram e le mostra le illustrazioni di uno splendido volume. Lei guarda, sorride di quando in quando, ma parla poco. L'alto e flemmatico Lord Ingram appoggia le braccia concerti allo schienale della sedia della piccola vivace Amy Ashton. Lei lo guarda di sotto in su cinguettando come un passero. Le piace più del signor Rochester. Henry Lynn ha preso possesso, insieme ad Adele, di un divanetto ai piedi di Louisa e cerca di parlare in francese con la bambina, mentre Louisa ride dei suoi errori. Blanche Ingram non ha cavaliere, è sola davanti al tavolo, chinandosi graziosamente su un album di ricordi. Sembra che aspetti di essere cercata, ma non aspetta a lungo, sceglie da sola un compagno. Il signor Rochester, lasciati gli Ashton, è ora accanto al camino, solo come lei è sola davanti al tavolo. Blanche gli si mette di fronte, sedendo all'altro lato del camino. Credevo, signor Rochester, che non vi piacessero i bambini. Infatti. Allora che cosa vi ha spinto a prendervi cura di quella bamboletta? Indicando Adele. Dove l'avete raccolta? Non l'ho raccolta, mi è stata affidata. Avreste dovuto mandarla in collegio? Non potevo affrontare la spesa, i collegi sono cari. Ma come? Immagino che abbiate una governante, ho visto qualcuno con lei proprio adesso. Se n'è andata? Oh no, è ancora là, dietro la tenda della finestra. La pagate, naturalmente, senza dubbio è altrettanto costosa, anzi di più, perché così dovete mantenerle tutte e due. Temevo, o forse dovrei dire, speravo, che l'allusione a me avrebbe indotto il signor Rochester a guardare dalla mia parte, e involontariamente mi nascosi ancora di più nell'ombra, ma lui non voltò lo sguardo. Non ho considerato la cosa da questo punto di vista, disse con indifferenza, guardando dritto davanti a sé. No, voi uomini non badate mai all'economia e al buonsenso. Dovreste sentire che cosa dice la mamma delle governanti. Mary e Dio ai nostri tempi ne abbiamo avuto almeno una dozzina. Una buona metà era detestabile e le altre ridicole, e tutte erano autentici incubi. Non è vero, mamma? Hai parlato, mia cara? Blanche ripete la domanda, aggiungendo qualche spiegazione. Mia cara, non parlarmi di governanti. La parola mi rende nervosa. La loro incompetenza e la loro bizzarria sono state per me un martirio. Ringrazio il cielo di non aver più avuto nulla a che fare con loro. La signora Dent si chinò verso quella pia signora e le mormorò qualcosa all'orecchio. Dalla risposta che ottenne, immagino le avesse ricordato che un membro di quella classe così stigmatizzata era presente. «Tompi!» esclamò infatti sua signoria. «Speriamo che questo le giovi!» Poi, a voce più bassa, ma abbastanza alta perché io potessi sentire. «L'ho osservata, so giudicare bene le persone dall'aspetto, e nel suo vedo tutti i difetti della sua classe.» «Quali sono, signora?» chiese il signor Rochester a voce alta. «Ve li dirò in privato», rispose, muovendo tre volte il turbante in un gesto carico di arcani significati. «Ma allora la mia curiosità avrà perduto l'appetito. È adesso che vuole essere saziata. Chiedetelo a Blanche, vi è più vicina.» «Oh, se devo dirglielo io, mamma, non ho che una parola per definire tutta la tribù. Sono una gran seccatura. Non ho certo sofferto molto a causa loro, perché ho fatto in modo di rovesciare i ruoli. Che tiri abbiamo giocato, Tio d'Oredio, alla signorina Wilson, alla signorina Grey e a Madame Joubert. Mary era sempre troppo insonnolita per riunirsi ai nostri complotti. Più di tutto ci siamo divertiti con Madame Joubert. La signorina Wilson era una povera donnetta malaticcia, paurosa e sempre in lacrime, indegna in breve di essere sconfitta. E la signora Grey era rozza e priva di sensibilità. Niente le faceva effetto. Ma la povera Madame Joubert. La vedo ancora nei momenti di furia, quando l'avevamo esasperata al massimo. Versando il tè, sbriciolando il pane e burro, scagliando i libri contro il soffitto e facendo un gran fracasso con la riga e il tavolino e gli alari e l'attizzatoio. «Tiodor, ti ricordi quei giorni felici?» «Sì, certo», biascicò Lord Ingram. E la povera donna ci gridava «Oh, cattivi, cattivi bambini!» E noi le dicevamo che era una presunzione voler insegnare, ignorante com'era, a dei ragazzi svegli come noi. «Già, e ti ricordo che ti ho aiutato a perseguire, o perseguitare, il tuo precettore, quel signor Winning dalla faccia slavata. Il parroco malaticcio, come lo chiamavamo. Lui e la signorina Wilson si presero la libertà di innamorarsi. Almeno così pensammo io e Theodore. Avevamo sorpreso ogni tanto occhiate tenere e sospiri che avevamo interpretato come sintomi della belle passion. E vi assicuro che non tardammo molto a rendere di pubblico dominio la nostra scoperta. Ce ne servimmo come di una leva per liberare la casa da quei pesi morti». E la cara mamma, appena seppe la cosa, scoprì che aveva una tendenza immorale. «Non è vero, mamma?» «Certo, amore mio. E avevo ragione, fidati di me. Ci sono mille motivi perché i legami tra governanti e precettori non debbano essere tollerati, neppure un minuto in una casa per bene. Prima di tutto...» «Oh mamma, risparmiateci l'elenco. O resto, lo conosciamo bene. Pericolo del cattivo esempio a bambini innocenti, distrazione con conseguente trascuratezza nel proprio lavoro da parte degli insegnanti, alleanza reciproca e reciproco appoggio, eccessiva fiducia che diviene insolenza, che scatena ammutinamento e ribellione generale. Ho ragione, baronessa Ingram di Ingram Park?» «Hai ragione, adesso come sempre, mio bel giglio. Allora, possiamo cambiare argomento». Amy Ashton, non avendo sentito l'ultima frase o non prendendola in considerazione, intervenne con la sua voce dolce e infantile. «Anche Luisa e io avevamo l'abitudine di tormentare la nostra governante, ma era così buona che sopportava tutto. Niente la indispettiva. Non andava mai in collera con noi, vero Luisa?» «No, mai. Potevamo fare quello che volevamo, saccheggiare il suo tavolino e la sua scatola da lavoro, mettere sotto sopra i suoi cassetti, e aveva un carattere così buono che ci dava tutto quello che le chiedevamo. Ora immagino, disse la signorina Ingram con una piega ironica alle labbra, che avremo un escursus della storia di tutte le governanti esistenti. Per evitare questa minaccia, presento una nuova mozione per un cambio di argomento. Appoggiate la mia mozione, signor Rochester?» «Vi appoggio in questo come in tutto, signorina Ingram. Allora sia mio all'onere della proposta. Siete in voce questa sera, signor Edward?» «Lo sarò se voi lo ordinate, signorina Blanche. Allora, messere, è mia sovrana volontà che voi predisponiate i polmoni e gli altri organi vocali, poiché devono mettersi al mio regale servizio. Chi non vorrebbe essere il rizio di una così divina Maria?» «Al diavolo rizio, musicista italiano, segretario di Maria Stuarda, venne assassinato per ordine del secondo marito di lei, Lord Darnley. Darnley venne successivamente fatto assassinare da James Hepburn, Lord Botwell, che sposò la regina nel 1567. «Sono convinta che David, il violinista, dovesse essere un tipo inspido. Preferisco il nero Botwell. Per me è un uomo che non ha in sé una punta di demoniaco, non vale nulla. La storia può dire quello che vuole di Botwell, ma era proprio quel genere di eroe bandito, fiero e selvaggio, al quale avrei accettato di dare la mia mano. «Avete sentito, signori? Ora che di voi assomiglia di più a Botwell?» esclamò il signor Rochester. «Direi che si tratta di voi», rispose il colonnello Dent. «Sul mio onore, ve ne ringrazio», fu la risposta. La signorina Ingram, che si era seduta al piano con orgogliosa grazia, spiegando in tutta la sua regale ampiezza e il vestito candido, attaccò un brillante preludio senza smettere di parlare. Sembrava in gran vena quella sera, con tegno e discorsi parevano esplicitamente destinati a suscitare non soltanto l'ammirazione, ma la meraviglia dei presenti. Era chiaro che voleva apparire molto audace e moderna. «Oh, sono così stanca dei giovani d'oggi», esclamò continuando a suonare distrattamente. «Sbarbatelli che non osano fare un passo oltre i cancelli del parco di papà. E neppure arrivare fino a tanto senza il permesso e la protezione di mamma. Tutti presi dalle cure per il loro bel viso e le loro mani bianche e i loro piedini, come se la bellezza fosse una caratteristica virile. Come non fosse al contrario la prerogativa essenziale della donna, il suo legittimo appannaggio, la sua eredità. Una donna brutta, lo ammetto, e una macchia sul bel viso della terra. Ma gli uomini si preoccupino soltanto di possedere forza e valore. Il loro motto sia «caccia, tiro e lotta, il resto non vale un soldo». Tale sarebbe il mio motto se io fossi un uomo. «Quando mi sposerò?» continuò dopo una pausa che nessuno interruppe. «Vorrò che mio marito non sia per me un rivale, ma un castone per mettere in risalto la mia bellezza. Non sopporterò concorrenti accanto al trono, esigerò un omaggio unico. La sua devozione non dovrà essere divisa tra me e l'immagine che vede nel suo specchio. «Signor Rochester, ora cantate e io vi accompagnerò». «Sono tutto obbedienza», fu la risposta. «Ecco qui una canzone di corsari. Sappiate che adoro i corsari e per questo cantatela con spirito». Gli ordini che vengono dalle labbra della signorina Ingram darebbero spirito anche ad una tazza di latte anacquato. «Attento allora, perché se non mi soddisfate vi svergognerò mostrando come dovrebbe essere cantata?» «Questo è come premiare l'incapacità. Ora cercherò di cantare male». «Garde vous en bien. Se sbagliate di proposito troverò un castigo adatto». «La signorina Ingram dovrebbe essere clemente, perché è in suo potere infliggere castighi di insopportabile durezza». «Spiegatevi ora», ordinò la signora. «No, signora, è superfluo spiegare. La vostra sensibilità deve farvi comprendere che un vostro sguardo accigliato equivale alla piena capitale». «Cantate», esclamò lei, e rimettendo le mani sui tasti cominciò a suonare con vivacità. «Questo è il momento di allontanarmi», pensai io, ma il suono che vibrò nell'aria mi fermò. La signora Fairfax mi aveva detto che il signor Rochester aveva una bella voce. Era vero. Una voce di basso, pastosa e potente, in cui effondeva il suo cuore e la sua forza, che giungeva al cuore e vi destava strane sensazioni. Aspettai che si fosse spenta la vibrazione profonda dell'ultima nota, che venisse ripresa la conversazione, interrotta per un istante. Allora lasciai il mio rifugio e scivolai fuori per la porta laterale, che fortunatamente era vicina. Di là un breve corridoio portava nell'atrio. Mentre lo attraversavo, vidi che avevo un sandalo slacciato. Mi fermai per allacciarlo, inginocchiandomi sul tappeto ai piedi della scala. Sentì aprire la porta della sala da pranzo, ne uscì un uomo. Alzatami in fretta, mi trovai faccia a faccia con lui. Era il signor Rochester. Come state? chiese. Benissimo, signore. Perché non siete venuta a parlarmi in salotto? Pensai che avrei dovuto rivolgere io a lui la domanda, ma non voli prendermi quella libertà. Non ho voluto disturbarvi, risposi, dal momento che sembravate occupato. Che cosa avete fatto durante la mia assenza? Niente di particolare, ho dato lezioni ad Adele come sempre. E siete diventata molto più pallida di come eravate. Me ne sono accorto alla prima occhiata. Che cosa avete? Niente, assolutamente niente, signore. Avete preso un raffreddore la notte che mi avete quasi annegato? No. Tornate in salotto, abbandonate troppo presto il campo. Sono stanca, signore. Lui mi guardò. È un po' depressa, disse. Per quale ragione? Ditemelo. Per nessuna ragione, signore, non sono depressa. Io dico che lo siete, tanto depressa che ancora qualche parola vi farebbe venire le lacrime agli occhi. Ecco, le vedo già, grandi e lucenti, e una lacrima è scivolata via dalle ciglia ed è caduta sul pavimento. Se avessi tempo e non avessi una terribile paura dei pettegolezzi di qualche cameriere di passaggio, vi farei parlare ad ogni costo. Bene, per questa notte andate pure, ma finché i miei ospiti rimangono, sappiate che voglio vedervi tutte le sere in salotto. È mio desiderio, non trascuratelo. Ora andate e mandate Sophie per Adele. Buonanotte, mia... Tacque si morse le labbra e mi lasciò bruscamente. Capitolo 18 Furono giorni di allegria per Thornfield, giorni pieni di impegni. Era tutto molto diverso dalla vita tranquilla, monotona, solitaria dei primi tre mesi che vi avevo trascorso. Ogni tristezza sembrava ora esclusa dalla casa, ogni malinconia dimenticata. Lungo tutto il giorno c'era ovunque vita e movimento. Non si poteva percorrere la galleria, un tempo così silenziosa, o entrare nelle camere sulla facciata, un tempo così disabitate, senza incontrare un'elegante camerierina o un cameriere dandy. La cucina, la dispensa, l'anticucina, l'atrio di ingresso non erano meno animati. I salotti venivano lasciati vuoti soltanto quando il cielo sereno e il sole di una primavera mite ne richiamavano all'aria aperta gli abitanti. Anche quando il tempo cambiò e piove per alcuni giorni di seguito, la gallezza non svanì. I passatempi in casa si fecero più vivaci e varianti per sostituire l'allegria all'aria aperta. Mi incuriosiva vedere che cosa avrebbero fatto la prima sera in cui proposero di cambiare passatempo. Parlavano di giocare alle sciarade, ma nella mia ignoranza non sapevo che cosa volesse dire. La servitù spinse da parte i tavoli, sposto le luci, mise le sedie in un semicerchio che fronteggiava l'arco. Mentre il signor Rochester e gli altri signori dirigevano i cambiamenti, le signore correvano su e giù per le scale chiamando le cameriere. Venne consultata la signora Fairfax perché informasse sulle risorse in fatto di scialli, abiti e drappi di ogni genere. Furono saccheggiati alcuni guardaroba al terzo piano e gonne di broccato a panier, abiti di raso alla watto, sete, nastri e trini per i cappelli vennero portati giù abbracciate dalle cameriere. Poi si fece una scelta e i capi prescelti vennero portati nel boudoir del salotto. Intanto il signor Rochester aveva nuovamente riunito le signore e stava scegliendo le sue compagne di gioco. La signorina Ingram viene con me naturalmente, disse, poi nominò le due signorine Ashton e la signora Dent. Si volse verso di me, per caso gli ero vicina perché avevo appena agganciato il braccialetto della signora Dent che si era sganciato. Volete giocare? chiese, scossi la testa. Temevo che avrebbe insistito e invece mi permise di tornarmene tranquilla nel mio angolo. Poi si ritirò dietro la tenda con le sue compagne di gioco. L'altro gruppo, guidato dal colonnello Dent, sedette sulle sedie disposte a semicerchio. Uno degli uomini, il signor Ashton, che mi aveva visto, sembrò suggerire che io giocassi con loro, ma Lady Ingram respinse subito la proposta. No, la sentì dire. All'aria troppo stupida per un gioco di questo genere. Poco dopo suonò un campanello e si sollevò la tenda. Oltre l'arco si vide la figura corpulenta di Sir George Lynn, uno dei compagni di gioco scelti dal signor Rochester, avvolto in un lenzuolo bianco. Davanti a lui, su un tavolo, era aperto un libro. Al suo fianco c'era Amy Ashton con un libro in mano e sulle spalle il mantello del signor Rochester. Una mano invisibile fece allegramente squillare il campanello. Allora corse avanti Adele, che aveva insistito per fare parte del gruppo, e sparse sul pavimento i fiori che teneva in un cestino appeso al braccio. A questo punto apparve la splendida signorina Ingram, tutta vestita di bianco, in testa a un velo fermato da una ghirlanda di rose. Al suo fianco camminava il signor Rochester, e insieme si avvicinarono al tavolo. Si inginocchiarono, mentre la signora Dent e Luisa Ashton, anche loro in bianco, si misero alle loro spalle. Seguì una cerimonia mimata a gesti, in cui era facile riconoscere la pantomima di un matrimonio. Al termine il colonnello Dent e il suo gruppo si consultarono sussurrando, poi il colonnello disse Bride! Il signor Rochester si inchinò, e la tenda si richiuse. L'intervallo fu lungo prima che si rialzasse di nuovo. Questa volta si offrì alla vista una scena molto più elaborata della precedente. Come ho già detto, il salotto era rialzato di due gradini rispetto alla sala da pranzo, e in cima al secondo gradino, uno o due metri entro la stanza, si vide una vasca di marmo, in cui riconobbi un arredo della serra, dove era circondata da piante esotiche e abitata da pesci rossi, da cui doveva essere stata portata con notevole sforzo, tenendo conto del peso e delle dimensioni. Accanto alla vasca, sul tappeto, era seduto il signor Rochester, coperto di scialli e con in testa un turbante. Gli occhi neri, la carnagione scura, i lineamenti erano in armonia col suo costume. Sembrava in tutto e per tutto un emiro orientale, un emiro strangolatore o vittima di strangolamento. Subito si fece avanti la signorina Ingram, anche lei era vestita all'orientale, una sciarpa cremisi le cingeva la vita, un fazzoletto ricamato era legato intorno alle tempie, le braccia bentornite erano nude ed una si sollevava nel lato di reggere una brocca posata graziosamente sul capo. La sua figura e i suoi lineamenti, la carnagione e l'aspetto in genere facevano pensare ad una principessa ebrea del tempo dei patriarchi. Era senza dubbio quello che doveva rappresentare. Si avvicinò alla vasca e si curvò come a riempire la brocca, poi la rimise sul capo. La figura accanto al pozzo sembrò allora rivolgerle la parola, chiedere qualcosa. Lei si affrettò a prendere in mano la brocca e gli diede da bere. Lui allora trasse dal petto uno scrigno, lo aprì e le mostrò splendidi braccialetti e orecchini. Lei manifestò stupore e ammirazione. Inginocchiandosi, lui le deposi ai piedi il tesoro. I gesti e gli sguardi di lei esprimevano incredulità e piacere. Lo straniero le mise al braccio i braccialetti e gli orecchini alle orecchie. La scena rappresentava Eliazar e Rebecca. Mancavano soltanto i cammelli. Le teste di coloro che dovevano indovinare si avvicinarono. Evidentemente non erano d'accordo sulla parola o sulla sillaba che la scena rappresentava. Il colonnello Dent, il portavoce, chiese di vedere la scena dell'intero. Subito si riabbassò la tenda. Nel terzo quadro apparve soltanto una parte della sala da pranzo. Il resto era nascosto da un paravento a cui erano appesi drappi scuri e rozzi. La vasca di marmo era stata tolta e al suo posto c'erano un tavolo di abete ed una sedia da cucina. La scena era illuminata non dalle candele, che erano state tolte, ma dalla luce debolissima di una lanterna. Al centro di quella squallida scena sedeva un uomo con i pugni chiusi sulle ginocchia e gli occhi a terra. Riconobbi il signor Rochester, sebbene il viso sporco, i vestiti in formi, la giacca che pendeva da una spalla quasi gli fosse stata strappata in una zuffa. L'espressione torva e disperata, i capelli spettinati, irsuti, avrebbero potuto mascherarlo efficacemente. Appena si mosse si sentì cingolare una catena, ai polsi aveva le manette. Bridewell, esclamò il colonnello Dent, e la charada era risolta. Nota, la charada è composta dalle parole bride, sposa, e well, pozzo. Il risultato, Bridewell, è il nome di una prigione di Londra. Passò un intervallo abbastanza lungo, quindi gli attori, ripresi i loro abiti consueti, rientrarono in salotto. Il signor Rochester accompagnava la signorina Ingram, che si complimentava per il suo talento di attore. «Sapete, dei tre personaggi che avete interpretato, più di tutti mi piace l'ultimo. Oh, se foste vissuto qualche anno fa, che splendido bandito gentiluomo sareste stato!» «È andata via tutta la fuligine dalla mia faccia?» chiese il signor Rochester, voltando il viso verso di lei. «Aimessi, purtroppo, niente si adiceva alla vostra carnagione più di quel trucco da brigante. Vi piacerebbe dunque un eroico bandito di strada? Un bandito inglese di strada sarebbe il meglio dopo un brigante italiano, e meglio di un brigante italiano sarebbe soltanto un pirata levantino. Bene, chiunque io sia, ricordate che siete mia moglie. Ci siamo sposati un'ora fa, in presenza di tutti questi testimoni». Con una risatina forzata, lei arrossì. «Ora, Dent!» continuò il signor Rochester. «Tocca a voi!» E mentre l'altro gruppo si ritirava, lui e la sua compagnia occupavano i posti rimasti vuoti. La signorina Ingram sedette al centro, alla sua destra. Gli altri occuparono le sedie tutto intorno. Io non guardavo gli attori, non aspettavo più con interesse che si aprisse la tenda. La mia attenzione era tutta per gli spettatori, e gli occhi, prima fissi verso l'arco, erano ormai irresistibilmente attratti dal semicerchio di sedie. Non ricordo più quale sciarada rappresentarono il colonnello Dent e i suoi compagni, se la interpretarono abilmente, ma ricordo ancora come i giocatori si consultassero dopo ogni scena. Vedo ancora il signor Rochester volgersi alla signorina Ingram, e la signorina Ingram a lui. La vedo chinare la testa verso di lui, tanto che i suoi riccioli lucenti quasi gli sfiorano la spalla, e gli ondeggiano contro la guancia. Sento ancora il loro bisbigliare, ricordo gli sguardi che si scambiavano, gli stessi sentimenti che quella vista suscitava in me mi tornano in questo momento alla memoria. Avevo imparato ad amare il signor Rochester. Non potevo ora non amarlo più soltanto perché lui aveva smesso di occuparsi di me. Perché potevo passare ore intere in sua presenza senza che lui volgesse mai verso di me lo sguardo. Perché vedevo tutte le sue attenzioni riservate ad una gran dama, che mi disprezzava al punto di evitare, passando, di toccarmi col lembo del suo vestito. Che, semmai i suoi occhi scuri e imperiosi si posavano involontariamente su di me, li distoglieva all'istante, come da un oggetto troppo meschino per meritare uno sguardo. Non potevo non amarlo più perché ero certa che egli avrebbe sposato presto proprio quella gran dama. Perché quotidianamente leggevo in lei una orgogliosa certezza delle intenzioni del signor Rochester. Perché vedevo, di ora in ora in lui, un modo di fare la corte che, sebbene non curante e teso a farsi cercare più che a cercare, era tuttavia affascinante nella sua negligenza e irresistibile nel suo orgoglio. Non vi erano in queste circostanze cause che potessero indebolire o distruggere l'amore. Vi erano però cause di disperazione. E molte cause, penseranno i lettori, di gelosia. Ma una donna nella mia posizione poteva essere gelosa di una donna come la signorina Ingram? Ma io non ero gelosa. O lo ero molto raramente. La mia sofferenza non si poteva spiegare con quella parola. La signorina Ingram era, ai miei occhi, troppo inferiore per suscitare gelosia. Mi si passi l'apparente paradosso. So quello che dico. Era molto brillante, ma non era spontanea. Aveva bellezza, era abile in molte cose, ma la sua intelligenza era meschina, il cuore era per natura sterile. Nulla fioriva spontaneamente su quel terreno, nessun frutto naturale godeva della sua frescura. Non era buona, non era originale. Ripeteva frasi sonanti lette nei libri. Non esprimeva, né aveva, opinioni personali. Ostentava intensità di sentimenti, ma ignorava la simpatia e la pietà. Non aveva in sé sincerità o tenerezza. Si tradiva sin troppo spesso cedendo alla dispettosa antipatia che provava per la piccola Adele. La respingeva con parole offensive se la bambina le si avvicinava. La faceva uscire dalla sala e la trattava sempre con aspra freddezza. Altri occhi, oltre ai miei, osservavano tali manifestazioni del suo carattere con lucida penetrazione. Sì, lo stesso signor Rochester. Il futuro sposo esercitava sulla sua promessa una continua sorveglianza. E proprio questa penetrazione, questa cautela, questa totale consapevolezza dei difetti della sua innamorata, questa palese assenza di passione in lui, costituivano la fonte della mia continua pena. La sposava, forse, per ragioni di famiglia o di politica, perché pensava di trarre vantaggio dalla sua posizione sociale e dalle sue parentele. Sentivo che non le aveva dato il suo amore e che lei non aveva un carattere tale da poter conquistare quel tesoro. Era questo il punto che mi toccava sul vivo e mi faceva soffrire, che alimentava la mia febbre. Lei non poteva farlo innamorare. Se fosse riuscita subito a riportare la vittoria e lui avesse ceduto e avesse sinceramente messo il suo cuore ai suoi piedi, mi sarei coperta il viso, voltandomi verso il muro, e sarei metaforicamente morta ai loro occhi. Se la signorina Ingram fosse stata una donna buona e nobile, dotata di coraggio, ardore, bontà, intelligenza, avrei dovuto affrontare una lotta mortale con le due tigri, la gelosia e la disperazione. Poi, con il cuore strappato e divorato, l'avrei ammirata, avrei riconosciuto la sua superiorità e sarei rimasta in silenzio per il resto dei miei giorni. E quanto più grande la sua superiorità, tanto più profonda sarebbe stata la mia ammirazione, tanto più serena la mia rassegnazione. Ma, così come stavano le cose, assistere agli sforzi della signorina Ingram per affascinare il signor Rochester, essere testimone dei suoi continui insuccessi che lei stessa ignorava, vanamente certa che ogni freccia lanciata colpisse il bersaglio, fiera come un pavone dei suoi successi, quando al contrario il suo orgoglio e la sua presunzione allontanavano sempre di più l'uomo che lei voleva incantare. Essere testimone di tutto questo significava per me un turbamento senza sosta, uno spietato autocontrollo. Quando sbagliava, io vedevo infatti come avrebbe potuto riuscire. Le frecce che mancavano continuamente il bersaglio e cadevano senza alcun effetto ai piedi del signor Rochester, lanciate da una mano più sicura avrebbero potuto colpire dritto al suo cuore orgoglioso, accendere l'amore nei suoi occhi severi e la dolcezza nel suo volto amaro. O, meglio ancora, sarebbe stato possibile riportare, senza armi, una vittoria discreta. Come mai? Mi chiedevo. Lei, che ha la fortuna di potergli stare così vicino, non riesce a conquistarlo. Senza dubbio non lo ama davvero o non lo ama con un sentimento autentico. Se lo amasse con sincerità non dovrebbe inalberare tanti sorrisi, lanciargli ininterrottamente occhiate, studiare atteggiamenti così elaborati, grazie così molteplici. Se guardasse e parlasse meno, sedendogli quietamente al fianco, credo che potrebbe avvicinarsi di più al suo cuore. Io ho visto sul volto di lui un'espressione molto diversa da quella che ora lo inasprisce, mentre lei gli si rivolge con tanta vivacità. Ma allora nasceva spontanea. Non era ottenuta con false arti e manovre calcolate. Bastava semplicemente accettarla, rispondere a quello che lui chiedeva, senza pretese, rivolgersi a lui, quando era necessario, senza smorfie. E l'espressione si faceva più intensa e più dolce e affettuosa, e riscaldava come un benefico raggio di sole. Come riuscirà a piacerli quando saranno sposati? Non credo che ci riuscirà. Pure sarebbe possibile riuscirci, e sua moglie potrebbe, ne sono convinta, essere la donna più felice tra quante il sole illumina. Finora non ho detto nulla che possa condannare il signor Rochester per il suo progetto di un matrimonio di pura convenienza. Rimasi stupita quando scoprì che questa era la sua intenzione. L'avevo creduto un uomo che non si sarebbe lasciato influenzare da ragioni tanto banali nella scelta di una moglie. Tuttavia, più riflettevo sulla posizione sociale, sul tipo di educazione, eccetera, delle due parti in causa, meno mi sentivo autorizzata a giudicare o biasimare lui o la signorina Ingram, perché si comportavano in armonia con le idee e i principi, che senza dubbio avevano assorbito fin dall'infanzia. Tutta la classe a cui appartenevano seguiva quei principi. Dovevano dunque avere ragioni, per rispettarli, che io non potevo comprendere. Mi sembrava che se fossi stata un uomo come lui, avrei dato il mio cuore soltanto ad una donna che avessi amato. Ma l'evidenza stessa dei vantaggi, per la felicità di un marito, di questo modo di agire, mi convinceva che dovevano esserci, per comportarsi in modo opposto, ragioni che ignoravo. Altrimenti, ero certa che tutti avrebbero agito come io avrei voluto agire. Ma anche su altri punti stavo diventando molto indulgente verso il mio padrone. Dimenticavo tutti quei difetti che una volta avevo attentamente osservato. Dapprima mi ero riproposta di studiare tutti i lati del suo carattere, esaminare il male insieme al bene e, valutandoli equamente entrambi, formulare un giudizio retto. Ora non vedevo più nulla di negativo. Il sarcasmo che mi aveva respinto, l'amarezza che mi aveva turbato, non erano se non il saporito condimento di un piatto eccellente, la cui presenza era pungente, ma la cui assenza avrebbe reso il piatto insipido. E quanto a quel non so che di misterioso, era un'espressione sinistra o dolente, calcolatrice o desolata, che di quando in quando, per un osservatore attento, si accendeva nel suo sguardo e subito si spegneva prima che si potesse sondare l'abisso parzialmente svelato. Quel qualcosa che mi faceva paura e mi respingeva, come mi fossi trovata a camminare tra colline vulcaniche e avessi ad un tratto sentito il terreno vibrare e lo avessi visto aprirsi. Quel qualcosa mi accadeva ancora di vederlo a tratti, e il cuore mi batteva forte, ma i nervi non si irrigidivano di paura. Invece di ritrarmi, desideravo soltanto avere il coraggio di risolvere il mistero, e consideravo fortunata la signorina Ingram perché un giorno avrebbe potuto guardare a suo piacere in quell'abisso, esplorarne i segreti e analizzarne la natura. Ma mentre io pensavo soltanto al mio padrone e alla sua futura moglie e non vedevo che loro e non sentivo se non i loro discorsi e giudicavo importanti soltanto i loro movimenti, gli altri erano presi dai loro piaceri e interessi personali. Le signore Lynn ed Ingram continuavano ad isolarsi tra loro in conversazioni solenni, e assentivano reciprocamente chinando i turbanti, e alzavano le mani in gesti paralleli di stupore, mistero ed orrore, secondo il tema dei loro pettegolezzi, come due giganteschi burattini. La dolce signora Dent parlava con la benevola signora Ashton, rivolgendomi a volte una parola gentile o un sorriso. Sir George Lynn, il colonnello Dent e il signor Ashton parlavano di politica, o degli affari della contea, o di processi. Lord Ingram amoreggiava con Amy Ashton, Louisa suonava e cantava con uno dei due giovani Lynn, mentre Mary ascoltava languidamente le galanterie dell'altro. A volte tutti, come per un'intesa, interrompevano la loro controscena per osservare ed ascoltare gli attori principali, poiché, a ben riflettere, il signor Rochester, e, poiché strettamente legata a lui la signorina Ingram, erano l'anima della compagnia. Quando il signor Rochester era assente, sia pure per un'ora, una palpabile noia si insinuava tra gli ospiti. Il suo ritorno dava un nuovo impulso alla conversazione. La sua mancanza si avvertì in modo particolare un giorno che era stato chiamato a Milcott per affari e che non sarebbe probabilmente tornato prima di sera. Nel pomeriggio cominciò a piovere. La progettata escursione fino ad un accampamento di zingari che si era da poco installato su un prato oltre ei venne di conseguenza rimandata. Alcuni degli uomini erano andati nelle scuderie. I giovani e le ragazze giocavano nella sala da biliardo. Le due vedove, la signora Ingram e la signora Lynn, giocavano quietamente a carte. Blanche Ingram, dopo aver respinto con silenziosa arroganza i tentativi della signora Dent e della signora Ashton di coinvolgerla nella conversazione, aveva dapprima sussurrato qualche aria sentimentale al piano. Poi, preso un romanzo dalla libreria, si era distesa su un divano con altera indifferenza per ingannare con il fascino della narrativa le tediose ore di assenza. La sala e la casa tutta erano silenziose. A tratti si sentiva venire dal piano di sopra l'allegria dei giocatori di biliardo. Era quasi il crepuscolo e la pendola aveva già annunciato l'ora di vestirsi per il pranzo, quando la piccola Adele, inginocchiata accanto a me sul sedile nel vano della finestra, esclamò «Voilà, monsieur Rochester, qui revient!» Mi voltai e la signorina Ingram balzò su dal divano. Anche gli altri sospesero le loro occupazioni perché in quell'istante si sentì un rumore di ruote ed un battere di zoccoli sulla ghiaia umida. Si avvicinava una carrozza. «Come mai torna con tanta solennità in carrozza?» chiese la signorina Ingram. «Quando è partito cavalcava Mesru, non è vero?» E aveva con sé Pilot. Che cosa ne ha fatto delle bestie?» E mentre parlava avvicinò tanto alla finestra la sua alta persona e le vesti voluminose che io dovetti piegarmi indietro fin quasi a rompermi la spina dorsale. Nel suo ardore non mi aveva visto, ma appena mi scorse piegò le labbra in un'espressione sprezzante e si diresse ad un'altra finestra. La carrozza si fermò, il cocchiere suonò alla porta mentre un uomo in abito da viaggio scendeva a terra. Non era il signor Rochester, ma un estraneo, alto ed elegante. «Che delusione!» esclamò la signorina Ingram. «Stupida scimmietta!» disse rivolta ad Adel. «Che ti ha fatto arrampicare alla finestra per dare notizie false?» E mi lanciò un'occhiata infuriata come fosse stata colpa mia. Si sentì parlare nell'atrio e subito il nuovo arrivato entrò. Si inchinò alle di Ingram giudicandola la più anziana tra le signore presenti. «Sembra sia arrivato in un momento inopportuno, signora. Il mio amico signor Rochester non è in casa, ma ho fatto un lungo viaggio e penso che una vecchia ed intima amicizia mi consenta di fermarmi qui fino al suo ritorno. Aveva modi cortesi. Il suo accento mi colpì per qualcosa di insolito. Non esattamente straniero, eppure non pienamente inglese. Poteva avere l'età del signor Rochester, fra i trenta e i quaranta. Aveva la carnagione molto scura, ma per il resto era un uomo di bell'aspetto, soprattutto a prima vista. Ad un esame più attento si scorgeva qualcosa di sgradevole nel suo viso, o piuttosto di non pienamente gradito. Aveva lineamenti regolari, ma fiacchi. Occhi grandi e ben tagliati, ma vuoti, privi di vita. O così mi parve. Il campanello avvertì che era ora di cambiarsi, e la compagnia si sciolse. Lo rividi soltanto dopo pranzo, sembrava perfettamente a suo agio. Ma il suo aspetto mi piaceva sempre meno. Mi sembrava ad un tempo inquieto e inerte. Gli occhi si guardavano continuamente attorno, senza una vera espressione. Questo gli dava uno sguardo strano, che non ricordavo di avere mai visto. Sebbene fosse bello ed aspetto amabile, pure sentivo per lui una viva repulsione. Non c'era energia in quel viso ovale e liscio, né fermezza nel disegno aquilino del naso, nella bocca piccola e vermiglia. Non c'era pensiero nella fronte bassa e regolare, né autorità, né gli occhi castani. Va qui. Seduta nel mio solito posto, mentre lo guardavo alla luce dei candelabri del camino che lo illuminavano in pieno, perché sedeva su una poltrona vicino al fuoco e gli si faceva sempre più vicino, come se avesse freddo, lo paragonavo al signor Rochester. Credo, si ha detto con tutto il rispetto, che non potrebbe esserci una differenza maggiore tra un lustro anatroccolo e un falco selvaggio, tra una pecora mansueta e il cane da pastore dal pelo ruvido e l'occhio attento. Aveva parlato del signor Rochester come di un vecchio amico. Una ben strana amicizia doveva essere stata la loro, una perfetta illustrazione del vecchio detto «gli estremi si toccano». Accanto a lui erano due o tre signori ed ogni tanto afferravo qualche parola della loro conversazione. All'inizio non potevo capire quello che sentivo perché i discorsi tra Luisa Ashton e Mary Ingram, sedute più vicino a me, confondevano i frammenti di frase che mi giungevano a tratti. Le due donne parlavano del forestiero, definendolo entrambe un bell'uomo. Luisa diceva che era un vero tesoro e che lo adorava, e Mary proclamava quella sua piccola bella bocca e il suo bel naso il proprio ideale di bellezza. «E che carattere dolce rivela la sua fronte liscia!» esclamò Luisa, senza quelle rughe aspre che detesto, e poi uno sguardo e un sorriso così sereni. Con mio grande sollievo, Henry Lynn le chiamò all'altro capo della sala per definire alcuni aspetti della gita rimandata al prato di A. Allora potei fissare la mia attenzione sul gruppo accanto al fuoco, e appresi così che il nuovo venuto si chiamava Mason, che era appena sbarcato in Inghilterra e che veniva da un paese caldo. Era certamente per questo che aveva una carnagione così scura e sedeva tanto vicino al fuoco e teneva il soprabito in casa. Poi i nomi Jamaica, Kingston, Spanish Town, rivelarono che la sua residenza era nelle Antille. Poco dopo mi stupì molto apprendere che proprio là aveva conosciuto per la prima volta il signor Rochester. Il suo amico, diceva, non amava il caldo torrido, gli uragani, la stagione delle piogge di quelle terre. Sapevo che il signor Rochester aveva viaggiato molto, lo aveva detto la signora Fairfax, ma credevo che i suoi vagabondaggi si fossero limitati all'Europa. Sentivo per la prima volta che aveva visitato terre tanto lontane. Ero immersa in tali riflessioni quando un caso imprevisto ruppe il filo delle mie fantasticherie. Il signor Mason, rabbrividendo perché qualcuno aveva aperto la porta, chiese che si aggiungesse carbone al fuoco, che si andava spegnendo, sebbene la cenere fosse ancora calda e rossa. Il cameriere che portò il carbone, uscendo, si fermò accanto al signor Ashton e gli disse qualcosa a bassa voce, distinsi soltanto le parole «vecchia» e «molto insistente». «Digli che la farò mettere alla berlina se non se ne va immediatamente», rispose il magistrato. «No, un momento», lo interruppe il colonnello Dent. «Non la fate cacciare via, Ashton, potremmo approfittare dell'occasione, sarà bene chiedere prima consiglio alle signore». E parlando forte aggiunse «Volevate andare a Dei, signore, per visitare l'accampamento degli zingari. Sam dice che una vecchia zingara si trova in questo momento nella stanza della servitù e insiste per essere portata davanti alle loro signorie e leggergli la mano. Volete provare?» «Senza dubbio, colonnello», esclamò Lady Ingram, «non vorrete incoraggiare una truffatrice come quella? Mandatela via ad ogni costo e subito». «Nessuno riesce a convincerla ad andarsene, signora», ribatte il cameriere. «Adesso ci sta provando la signora Fairfax, ma la zingara si è seduta nell'angolo del camino e dice che non si muoverà finché non ottiene il permesso di venire qui». «E che cosa vuole?» chiese la signora Ashton. «Dice che vuole dire la buona ventura alla bella gente e giura che deve farlo e lo farà». «E che aspetto ha?» chiesero all'unisono le signorine Ashton. «E' una vecchia orribile signorine, nera come un corvo». «Un'autentica strega», esclamò Frederick Lynn. «Lasciamola entrare, allora». «Ma sì», incalzò suo fratello, «sarebbe un vero peccato perdere questa occasione di divertimento». «Ma cosa vi viene in mente, ragazzi miei?» chiese Lady Lynn. «Non posso approvare una condotta tanto assurda», le fece eco alla signora Ingram. «Ma sì, mamma, potete farlo e lo farete», intervenne la voce arrogante di Blanche, che si girò sullo sgabello del pianoforte, dove era rimasta in silenzio sfogliando gli spartiti. «Sono curiosa di sentirmi predire il futuro. Sam, ordinate a quella vecchia di venire!» «Mia cara Blanche, devi pur considerare...» «Sì, mamma, considero tutto quello che voi potreste suggerirmi e voglio fare a modo mio. Presto, Sam!» «Sì, sì», esclamarono all'unisono i giovani e le ragazze. «Che venga, sarà un vero divertimento!» Il cameriere esitava ancora. «Ha un aspetto così rozzo!» disse. «Andate!» ordinò la signorina Ingram, e lui uscì. Presi dall'eccitazione, tutti ridevano e scherzavano quando Sam tornò. «Adesso non vuole più venire!» disse. «La sua missione, afferma, non è di apparire davanti alla massa volgare, ha detto proprio così. Devo farla entrare da sola in una stanza e quelli che desiderano consultarla dovranno andare da lei uno alla volta.» «Vedi bene ora, Blanche, regina mia!» cominciò Lady Ingram. «Che passa i limiti! Ascolta i miei consigli, angelo mio, e...» «Fatela entrare in biblioteca, naturalmente!» la interruppe l'angelo. «Neppure è la mia missione ascoltarla dinanzi alla massa volgare. Voglio averla tutta per me.» «E' acceso il fuoco in biblioteca.» «Sì, signorina, ma l'aria talmente selvaggia!» «Basta con le chiacchiere sciocco e seguite i miei ordini.» Sam scomparve di nuovo e il mistero, l'eccitazione e la curiosità crebbero nuovamente al massimo. «Ora è pronta», disse il cameriere quando tornò, e vuole sapere chi la consulterà per prima. «Sarà meglio che vada a darle un'occhiata prima che vadano le signore», intervenne il colonnello Dent. «Dille che andrà da lei un gentiluomo.» Sam andò e tornò. «Dice che non vuole vedere uomini, signore, che è inutile che si disturbino ad andare da lei, e neppure...» aggiunse trattenendo a stento una risata. «Le signore, soltanto le signorine.» «Per giove, a buon gusto!» esclamò Ernie Lynn. La signorina Ingram si alzò solennemente. «Vado io per prima», disse nel tono adatto al generale di una battaglia ormai perduta, che si getta all'assalto insieme ai suoi uomini. «Oh mio tesoro, mia diletta, rifletti, aspetta!» implorò sua madre, ma Blanche le passò davanti altera e silenziosa, uscì dalla porta che il colonnello Dent le teneva aperta e la sentimmo entrare in biblioteca. Seguì una pausa di relativo silenzio. Lady Ingram ritene opportuno torcersi le mani e non mancò di farlo. La signorina Mary, da parte sua, dichiarò che non avrebbe mai osato avventurarsi. Con l'aria un po' spaventata, Amy e Louisa Ashton trattenevano il respiro. Il tempo passò lentamente. Trascorse un quarto d'ora prima che si riaprisse la porta della biblioteca. La signorina Ingram comparve sotto l'arco. Rideva, prendeva la cosa scherzosamente. Tutti gli sguardi si rivolsero a lei con viva curiosità, e lei li sostenne con scontrosa freddezza. Non sembrava né emozionata né divertita. Andò rigidamente alla sua sedia e sedette in silenzio. «Ebbene, Blanche», chiese Lord Ingram. «Che cosa ti ha detto?» incalzò la sorella. «Che cosa ne pensi? Come ti è apparsa? È una vera indovina?» chiesero le signorine Ashton. «Andiamo, andiamo, brava gente!» rispose la signorina Ingram. «Non soffocatemi! Siete pronti a stupirvi e a credere con troppa facilità. Dall'importanza che date tutti alla cosa, e anche la mia cara mamma, sembrate convinti che in casa ci sia davvero una strega in stretto accordo con il diavolo. Io ho visto una zingara. Mi ha letto la mano e mi ha detto le cose che dicono tutte le zingare. Il mio capriccio è appagato e ora credo che il signor Ashton farà bene a mettere la strega alla berlina come ha minacciato. La signorina Ingram prese un libro e si appoggiò allo schienale, escludendo così ogni ulteriore conversazione. Io rimasi ad osservarla quasi per mezz'ora. Non voltò una sola pagina e il suo viso cupo esprimeva sempre più scontentezza e delusione. Pallesemente non si era sentita dire nulla di lusinghiero e mi sembrò, da quella lunga crisi di cupo silenzio, che lei stessa, nonostante la sua ostentata indifferenza, desse un'importanza eccessiva alle rivelazioni che le erano state fatte. Intanto Mary Ingram ed Amy e Louisa Ashton dichiararono che non osavano andare da sole, sebbene bruciassero dal desiderio di andare. Si aprì una trattativa con la mediazione di Sam e dopo essere andato avanti e indietro tante volte da averne, credo, le gambe indolenzite, riuscì infine a strappare a quella rigorosa Sibilla il permesso per le tre signorine di presentarsi insieme. La loro visita non fu silenziosa come quella della signorina Ingram. Sentimmo venire dalla biblioteca gridolini e risate nervose, e in capo ad una ventina di minuti le tre signorine aprirono bruscamente la porta ed entrarono nell'atrio, quasi fuori di sé dalla paura. Certo non è una donna come le altre! Esclamarono tutte e tre. Ci ha detto di quelle cose, sa tutto di noi! E si lasciarono cadere, senza fiato, sulle sedie che i signori si erano affrettati a offrire. Sollecitate a dare ulteriori spiegazioni, raccontarono che la zingara aveva parlato perfino di cose che avevano fatto da bambine. Aveva descritto libri e ninnoli che si trovavano nei salotti di casa loro, doni ricevuti da parenti. Dissero che aveva indovinato i loro pensieri e aveva sussurrato nell'orecchio di ognuna il nome della persona che amava di più al mondo e indicato la cosa che ognuna più desiderava. Su questi due ultimi punti i signori chiesero appassionatamente altri particolari, ma non si ottennero in risposta alla loro indiscrezione altro che rossori, risa soffocate, esclamazioni e brividi. Le signore, frattanto, offrivano sali e agitavano ventagli, ed esprimevano con insistenza preoccupazione perché i loro consigli non erano stati seguiti. Gli uomini anziani ridevano e i giovani offrivano i loro servizi alle belle turbate. In mezzo a tanta confusione e mentre ero tutta presa dalla scena che si svolgeva davanti ai miei occhi, mi sentì stoccare il gomito. Voltandomi, vidi Sam. Signorina, la zingara ha detto che c'è nella sala un'altra ragazza che non è ancora stata da lei e giura che non se ne andrà se non ha visto tutte. Penso che alluda a voi. Non c'è nessun altro. Che cosa devo dirle? Oh, andrò, andrò senz'altro. Ero contenta di quella inattesa occasione di soddisfare la mia curiosità. Senza essere osservata, perché tutti si affollavano attorno al tremante terzetto appena rientrato, uscì dalla sala e richiusi la porta. Se volete, signorina, disse Sam, resterò nell'atrio. Se avete paura, chiamatemi ed entrerò. No, Sam, tornate in cucina, non ho affatto paura. Non provavo paura, infatti, ma molto interesse e curiosità. Capitolo 19 Quando entrai, la biblioteca era perfettamente tranquilla, e la Sibilla, se di Sibilla si trattava, sedeva perfettamente a suo agio in una poltrona accanto al camino. Indossava un mantello rosso e un cappello nero, un copricapo da zingara attesa larga, annodato sotto il mento da un fazzoletto a righe. Sul tavolo c'era una candela spenta. China sul fuoco, la donna sembrava leggere al riverbero della fiamma un libro nero, piccolo, simile ad un libro di preghiere. Leggendo, masticava le parole come fanno alle vecchie. Al mio ingresso non si interruppe subito, come volesse finire il paragrafo. In piedi sul tappeto mi riscaldai le mani, che erano fredde a forza di sedere lontano dal fuoco in salotto. Non mi ero mai sentita tanto calma, in verità non c'era nulla nell'aspetto della zingara che potesse turbare. Lei chiuse il libro e alzò lentamente lo sguardo. La tesa del cappello le nascondeva in parte il viso, che mi apparve, come lei lo sollevò, singolare. Era molto nero, qualche ciocca di capelli le sfuggiva dalla fascia bianca che le passava sotto il mento e le veniva quasi sulle guance, o piuttosto sulle mascelle. Fisso subito su di me uno sguardo fermo e spavaldo. «Ebbene, volete conoscere la vostra sorte?» chiese con una voce ferma come lo sguardo e dura come i suoi lineamenti. «Non mi interessa, nonna, se a voi fa piacere fate pure, ma vi avverto che non ci credo». «E' proprio tipico della vostra sfacciataggine dire così. Del resto me lo aspettavo, l'ho capito dai vostri passi mentre entravate». «Davvero? Avete l'orecchio fine?» «Sì, e anche l'occhio e il cervello». «Ne avete bisogno nel vostro mestiere?» «Già, specialmente quando devo affrontare clienti come voi. Perché non tremate?» «Non ho freddo». «Perché non impallidite?» «Non sono malata». «Perché non credete alle mie arti?» «Non sono sciocca». Di sotto il cappello e la fascia si sentì una risata sarcastica. Poi la vecchia tirò fuori una pipetta nera, la accese e cominciò a fumare. Dopo aver fumato un poco si raddrizzò, si tolse la pipa dalla bocca e guardando fisso il fuoco, disse con voce risoluta. «Avete freddo? Siete malata e sciocca!» «Dimostratemelo!» ribattei. «Ve lo proverò e in poche parole. Avete freddo perché siete sola, nessun contatto accende il fuoco che è in voi. Siete malata perché il migliore di tutti i sentimenti, il più nobile e il più dolce che sia concesso agli uomini vi rimane lontano. Siete sciocca perché per quanto ne soffriate non gli fate cenno di avvicinarsi, né muovete un passo per andargli incontro». Rimise in bocca la pipetta nera e riprese a fumare vigorosamente. «Potreste dire la stessa cosa quasi a chiunque sappiate vivere sola, come dipendente, in una grande casa». «Potrei dirlo quasi a chiunque, infatti, ma sarebbe la verità per chiunque?» «Nella mia situazione sì. Appunto, nella vostra situazione. Ma trovatemene un'altra che sia esattamente nella vostra situazione. Potrei trovarvene a migliaia. Potreste trovarvene a malapena una. Non sapete in quale singolare situazione vi trovate. La felicità vi è vicinissima, a portata di mano. Gli elementi sono tutti pronti, manca soltanto un movimento per combinarli insieme. Il caso li ha messi separati tra loro, ma basta che si avvicinino e ne scaturirà la felicità. Non capisco gli enigmi. In vita mia non ho mai risolto un indovinello. Se volete che parli più chiaramente, mostratemi la mano. E dovrà esserci una moneta nella mano, immagino. Naturalmente! Le diedi uno scellino. Lei lo mise in una vecchia calza che aveva in tasca, la legò, la rimisa nella tasca e mi disse di porgerle la mano. Avvicinò il viso al mio palmo e l'esaminò attentamente, senza toccarlo. È troppo fine, disse. Non posso leggere nulla in una mano come questa, quasi senza linee. Inoltre, che cosa c'è in una mano? Il destino non è scritto nella mano. Lo credo bene, dissi. No, continuò lei. È scritto nel viso, sulla fronte, attorno agli occhi e negli occhi, nelle linee della bocca. Inginocchiatevi e alzate la testa. Ah, adesso vi avvicinate alla verità, osservai inginocchiandomi. E comincio a prestarvi fede. Mi ero inginocchiata a circa mezzo metro da lei. Lei mosse il fuoco e un'onda di luce si dal carbone smosso. Tuttavia, il bagliore la lasciava ancora più in ombra, dove sedeva, e illuminava il mio viso. Mi chiedo con quali sentimenti siate venuta questa sera, disse dopo avermi esaminata. Mi chiedo quali pensieri occupino il vostro cuore nelle ore che passate seduta in salotto, con quella gente elegante che vi sfila davanti come le ombre di una lanterna magica. Tra loro e voi non c'è nessuna comunione, come se davvero fossero soltanto l'ombra di forme umane e non la sostanza. Provo spesso stanchezza, qualche volta sonnolenza, raramente tristezza. Avete dunque qualche speranza segreta che vi dà coraggio, che vi sussurra progetti per il futuro? No, di certo. La mia ambizione più alta è mettere da parte abbastanza denaro per aprire un giorno una scuola in una piccola casa affittata da me. Un nutrimento troppo magro per nutrire lo spirito. È seduta nel vano della finestra. Come vedete, conosco le vostre abitudini. Le avete certo sapute dalla servitù. Ah, credete di essere furba? Bene, forse è vero. A dire la verità conosco qualcuno della servitù. La signora Poole. A quel nome balzai in piedi. Ah, la conosci dunque? Pensai. Dopotutto c'è qualcosa di diabolico in questa faccenda. Non spaventatevi, continuò quello strano essere. La signora Poole è una donna di cui fidarsi. Lo è davvero. È discreta e tranquilla. Tutti possono fidarsi di lei. Ma, come stavo dicendo, seduta nel vano della finestra, pensate soltanto alla vostra futura scuola. Non provate un interesse particolare per nessuno tra quelli che occupano i divani e le sedie davanti a voi? Non c'è un viso che osservate? Qualcuno i cui movimenti seguite, se non altro, per curiosità? Mi piace osservare tutti i visi e tutte le persone. Ma non ne isolate mai una o forse due da tutte le altre? Sì, spesso, quando i gesti e gli sguardi di una coppia sembrano raccontare qualcosa. Allora mi diverto ad osservarli. Quale racconto preferite? Oh, non ho molta scelta. Hanno tutti un unico tema, l'amore. Annunciano tutti uno stesso finale, il matrimonio. E questo tema monotono vi piace? In realtà non mi interessa. Non mi riguarda in alcun modo. Non vi riguarda? Quando una donna giovane, piena di vita e di salute, dotata di bellezza e di tutti i doni del rango e della fortuna, siede sorridendo negli occhi di un uomo, voi? Io? Voi sapete? E forse approvate? Io non conosco gli uomini di qui. Non ho parlato con nessuno di loro e, quanto a giudicarli bene, ne trovo alcuni rispettabili e solenni. E di mezza età, altri giovani, spavaldi, belli e vivaci. Ma senza dubbio hanno tutti il diritto di ricevere i sorrisi di chi vogliono, senza che io debba considerare la cosa di alcuna importanza. Non conoscete gli uomini di qui? Non parlate con nessuno di loro? Lo direste anche del padrone di casa? Lui non è qui. Profonda osservazione, abile sotterfugio. È andato a Milcott questa mattina e tornerà questa sera o domani. Questa circostanza lo esclude dunque dall'elenco delle vostre conoscenze? Lo cancella, per così dire, dall'esistenza? No, ma non vedo che cosa il signor Rochester abbia a che vedere con tutto questo. Parlavo delle signore che sorridono negli occhi degli uomini e di recente tanti sorrisi si sono riversati negli occhi del signor Rochester che traboccano come due tazze troppo colme. Non lo avete osservato? Il signor Rochester ha il diritto di godere della compagnia dei suoi ospiti. Senza dubbio ne ha il diritto. Ma non avete osservato che di tutti i racconti narrati sul matrimonio al signor Rochester è toccato il più animato e costante? L'interesse di chi ascolta muove la lingua di chi parla, risposi. Più per me stessa che per la zingara, le cui parole, la voce, i modi strani mi avevano strette in una sorta di sogno. Alle labbra le venivano frasi strane una dopo l'altra, ed io mi trovavo avviluppata in una rete di inganno, e mi chiedevo quale invisibile spirito avesse vegliato per settimane accanto al mio cuore, osservandone i moti e prendendo nota di ogni battito. L'interesse di chi ascolta, ripetè la zingara. Sì, e il signor Rochester è rimasto per ore chino ad ascoltare le labbra ammaliatrici che provavano tanto piacere nel comunicare. Ed era così pronto a ricevere, così grato del passatempo che gli veniva offerto. Non lo avete osservato? Grato, non ricordo di aver trovato un sentimento di gratitudine nel suo viso. Trovato, dunque avete cercato, e che cosa avete trovato se non gratitudine? Non risposi. Avete visto amore, non è vero? E guardando al futuro, lo avete visto sposato e avete visto la felicità della sua sposa? No, non è proprio così. Le vostre doti di strega qualche volta fanno cilecca. Che diavolo avete visto allora? Non vi riguarda. Sono venuta qui per interrogare, non per confessarmi. Dunque il signor Rochester si sposerà? Sì, con la bella signorina Ingram. Presto? Tutto lo fa supporre, e certo, sebbene con un'audacia che dovrebbe venire stirpata con una punizione, voi sembriate metterlo in dubbio. Formeranno una coppia eccezionalmente felice. Lui non può non amare una giovane donna così bella, nobile, spiritosa, perfetta in tutto. E probabilmente lei lo ama. Se non la sua persona, certamente ama la sua borsa. Giudica molto desiderabile la proprietà del signor Rochester, benché quello che le ho detto al riguardo un'ora fa, Dio mi perdoni, abbia reso i suoi occhi molto molto seri. La piega della sua bocca si è fatta imbronciata. Dovrei avvertire il suo pretendente dalla carnagione scura. Se si presenterà un altro più ricco, lui sarà messo da parte. Ma, nonna, non sono venuta per sentire la sorte del signor Rochester. Sono venuta per sentire la mia e non mi avete detto nulla. Il vostro avvenire è ancora incerto. I tratti del viso si contraddicono. La sorte vi ha assegnato una buona dose di felicità. Questo lo so bene. Lo sapevo prima di venire qui questa sera. L'ha accuratamente deposta accanto a voi. L'ho veduta farlo. Dipende da voi tendere la mano e prenderla. Il problema è stabilire se lo farete. Inginocchiatevi di nuovo sul tappeto. Non trattenetemi a lungo, il fuoco mi scotta. Mi inginocchiai. Lei non si chinò su di me, ma si limitò a guardarmi, appoggiandosi allo schienale. Poi cominciò a mormorare. La fiamma trema nei vostri occhi. Gli occhi splendono come gocce di rugiada, dolci e pieni di sentimento. Sorridono delle sciocchezze che dico. Sono impressionabili. Le impressioni si susseguono nella loro limpida orbita, ma quando cessano di sorridere sono tristi. Un'inconsapevole stanchezza pesa sulle palpebre. Indica la malinconia che nasce dalla solitudine. Ora gli occhi si distolgono da me. Non accettano un esame più profondo. Sembra quasi vogliano negare, con un'espressione ironica, la verità delle scoperte che ho fatto. Respingere l'accusa di sensibilità e di tristezza. Ma l'orgoglio e il riservo dei vostri occhi non fanno che rafforzare la mia opinione. Gli occhi sono un segno favorevole. Quanto alla bocca, a volte si compiace di ridere, e di ridere con gioia. È pronta a esprimere tutto quello che la mente pensa, benché davvero non riveli le esperienze del cuore. Mobile e flessibile, non è creata per chiudersi nel silenzio perenne della solitudine. È una bocca che dovrebbe parlare molto e sorridere spesso, e avere umana tenerezza per il suo interlocutore. Anche la bocca è favorevole. Non vedo ostacoli a un esito felice se non nella fronte. E la fronte afferma, posso vivere sola se il rispetto di me stessa e le circostanze me lo chiederanno. Non mi è necessario vendere l'anima per comprare la felicità. Ho un tesoro interiore, nato insieme a me, che può mantenermi viva anche se tutti i piaceri esterni mi verranno negati, o offerti a un prezzo che non potrò accettare. La fronte afferma, la ragione è forte e tiene strette le redini, e non permetterà ai sentimenti di impizzarrirsi e di condurla verso ignoti abissi. Per quanto le passioni divampino, da vere pagane quali sono, per quanto i desideri possano immaginare vani oggetti di ogni genere, la ragione avrà sempre in ogni cosa l'ultima parola, e in ogni decisione pronuncerà il voto risolutivo. Potranno passare il vento, il terremoto e il fuoco, ma io seguirò la guida di quella voce sottile che interpreta i dettami della coscienza. Hai parlato bene, fronte, le tue dichiarazioni saranno rispettate, io ho preparato i miei piani e li considero giusti, e ho considerato le esigenze della coscienza, i consigli della ragione. So che la giovinezza svanirà, la pianta sfiorirà subito se nella coppa di felicità che le viene offerta rimarrà un fondo di vergogna, un sapore di rimorso, ed io non voglio sacrifici, sofferenza, distruzione. Non è questo che voglio, desidero far prosperare, non inaridire, meritare gratitudine, non far versare lacrime di sangue, no, né lacrime salate. Voglio un raccolto di sorrisi, parole tenere e dolcezza. Questo voglio. Ma vedo che sto delirando in un delirio incantevole. Vorrei poter prolungare questo momento all'infinito, e non oso. Sinora non ho perso il controllo di me. La mia condotta è stata quale io avevo voluto fosse, ma se continuassi potrei andare oltre le mie forze. Alzatevi, signorina Eire, e lasciatemi. La commedia è finita. Dov'ero? Ero sveglia o dormivo? Avevo sognato? Sognavo ancora? La voce della vecchia era cambiata, il suo accento, i suoi gesti, tutto mi era familiare come il mio stesso viso, come la mia voce. Mi alzai, ma non mi mossi. Guardai. Smossi il fuoco e guardai di nuovo. Ma la zingara si strinse al viso il cappello e la fascia, e mi fece di nuovo cenno di andarmene. La fiamma illuminò la sua mano tesa. Ormai allerta e pronta alle scoperte, notai subito quella mano. Non era una mano avvizzita da vecchia più di quanto lo fosse la mia. Era una mano piena e flessibile, con le dita lisce e ben disegnate. Sul mignolo scintillava un largo anello. Mi chinai ad osservarlo e vidi una gemma che avevo visto centinaia di volte. Esaminai di nuovo il viso. Non si nascondeva più al mio sguardo. Al contrario, il cappello e la fascia vennero tolti. Il viso si avvicinò al mio. «Ebbene, Jane, mi riconoscete?» chiese la voce familiare. «Toglietevi soltanto il mantello rosso, signore, e poi...» «Ma i lacci si sono annodati. Aiutatemi!» «Rompeteli, signore!» «Ecco, via queste inutili spoglie!» E il signor Rochester uscì dal suo travestimento. «Oh, signore, che strana idea questa! Ma riuscita bene, vero? Non lo pensate anche voi? Con le signore dovete aver recitato bene. Ma con voi no? Con me non avete recitato la parte di una zingara. Che parte ho recitato? La mia? No, una parte indefinibile. Credo proprio che abbiate cercato di farmi parlare, o di ingannarmi. Avete detto sciocchezze perché le dicessi anch'io. Non è bello, signore?» «Mi perdonate, Jane?» Non posso rispondere prima di aver riflettuto. Se scopro di non essere caduta in nessuna grave assurdità, cercherò di perdonarvi. Ma non è stato giusto. «Oh, siete stata molto discreta, prudente e ragionevole!» Riflettei, e pensai che in complesso era vero. Mi sentisso elevata, ma ad essere sincera ero stata sul chi vive sin dall'inizio del colloquio. Avevo sospettato un travestimento. Sapevo che zingare e chiromanti non parlano come parlava quella vecchia. Inoltre avevo notato la voce falsata, la preoccupazione di nascondere il viso. Ma il mio pensiero era corso a Grace Pool, quell'enigma vivente, quel mistero dei misteri, come mi appariva. Non avevo pensato per un solo istante al signor Rochester. «Ebbene, su che cosa riflettete? Che cosa significa quel sorriso grave?» «Stupore e soddisfazione, signore. Ora mi permettete, penso, di ritirarmi?» «No, restate un momento e ditemi che cosa succede in salotto. Certo, stanno parlando della zingara. Sedetevi via e ditemi che cosa hanno detto di me. È meglio che non rimanga troppo a lungo, signore. Devono essere quasi le undici. E non sapete, signor Rochester, che è arrivato un forestiero dopo la vostra partenza questa mattina?» «Un forestiero? No, e chi può essere? Non aspettavo nessuno. È ripartito?» «No, ha detto che vi conosceva da molto tempo e che poteva prendersi la libertà di fermarsi fino al vostro ritorno.» «Che vada al diavolo! Ha detto come si chiama?» «Si chiama Mason e viene dalle Antille, da Spanish Town in Jamaica, credo.» Il signor Rochester era in piedi accanto a me. Mi aveva preso la mano come per condurmi ad una sedia. Sentendo le mie parole, mi strinse convulsamente il polso. Il sorriso gli morì sulle labbra. Sembrò che uno spasimo gli togliesse il respiro. «Mason, le Antille!» disse con una voce da automa. «Mason, le Antille!» ripetè tre volte, sillabando le parole e diventando, mentre le pronunciava, pallido come un cencio. Sembrava non sapesse quello che faceva. «Vi sentite male, signore?» chiesi. «Jane, è stato un colpo per me. Un grave colpo, Jane.» Barcollava. «Appoggiatevi a me, signore.» «Già una volta, Jane, mi avete offerto l'appoggio della vostra spalla. Permettetemi di valermene ancora.» «Sì, signore, e anche del mio braccio.» Sedette e mi fece sedere accanto a lui. Mi prese la mano fra le sue e me la riscaldò, guardandomi con un'espressione turbata e triste. «Mia piccola amica», disse. «Vorrei essere solo con voi in un'isola tranquilla, con gli affanni, i pericoli, gli odiosi ricordi, lontani da me. Posso aiutarvi, signore? Darei la mia vita per servirvi. Se avrò bisogno di aiuto, Jane, lo chiederò a voi. È una promessa.» «Grazie, signore. Ditemi che cosa devo fare. Se non altro, cercherò di farlo.» «Andate a prendermi un bicchiere di vino in sala da pranzo. Gli ospiti staranno pranzando. Ditemi se mesone con loro e che cosa fa.» Andai. Come aveva detto il signor Rochester, la comitiva era riunita a pranzo. Non erano seduti al tavolo, i cibi erano sulla credenza, e gli ospiti, raccolti a gruppi, con in mano piatti e bicchieri, si erano serviti a proprio piacere. Sembravano tutti di ottimo umore, e ridevano e parlavano vivacemente. Il signor Mason, accanto al camino, conversava con il colonnello dente e sua moglie, apparentemente non meno allegro degli altri. Riempì un bicchiere di vino. La signora Ingram, vedendomi, si accigliò, pensando probabilmente che io mi stessi prendendo una libertà. E tornai in biblioteca. L'estremo pallore del signor Rochester era scomparso, e mi parve nuovamente pieno di coraggio e di energia. Mi prese dalle mani il bicchiere. «Alla vostra salute, spirito benefico!» disse. Vuotò il contenuto e mi restituì il bicchiere. «Che cosa stanno facendo, Jane?» Ridono e chiacchierano, signore. «Non hanno l'aria seria, misteriosa, come se avessero sentito qualcosa di strano?» «No, vero, scherzano e sono di ottimo umore.» «E Mason?» Anche lui rideva. «Se venissero tutti insieme a sputarmi addosso, che cosa fareste?» «Li caccerei via, signore, se mi riuscisse.» Lui fece un mezzo sorriso. «Ma se io andassi da loro, e mi guardassero con freddezza e mormorassero parole di schermo, e poi se ne andassero uno ad uno, che cosa fareste allora? Andreste con loro?» «Credo di no, preferirei rimanere con voi.» «A confortarmi?» «Sì, signore, a fare il possibile per confortarvi.» «E se vi mettessero al bando per essermi rimasta fedele?» «Probabilmente non saprei mai del loro bando, e se lo conoscessi non me ne importerebbe nulla.» «Dunque, affrontereste il biasimo per me?» «Lo affronterei per qualsiasi amico meritasse la mia fedeltà, come sono certa voi meritiate.» «Tornate in sala adesso, avvicinatevi senza dare nell'occhio a Mason, e sussurrategli all'orecchio che il signor Rochester è tornato e desidera vederlo. Introducetelo qui, poi lasciateci.» «Sì, signore.» Feci come mi aveva chiesto. Gli ospiti mi guardarono meravigliati mentre passavo tra loro. Cercai il signor Mason, gli feci l'ambasciata e lo precedetti. Lo accompagnai in biblioteca, poi salì di sopra. A tarda ora, quando ero già da qualche tempo a letto, sentì gli ospiti rientrare nelle loro camere. Distinsi la voce del signor Rochester che diceva «Quì, Mason, ecco la tua stanza.» Parlava in tono gaio, ed io mi senti tranquilla. Poco dopo mi addormentai. Capitolo 20 Avevo dimenticato di tirare la cortina del letto, come facevo sempre, e di abbassare la tenda della finestra. Di conseguenza, quando la luna, piena e luminosa, perché era una bella nottata, nel suo cammino passò di fronte alla mia finestra e mi guardò attraverso i vetri. Il suo glorioso splendore mi svegliò. Destata in piena notte, posai lo sguardo sul disco chiaro come l'argento e il limpido come il cristallo. Uno spettacolo magnifico, ma troppo solenne. Sollevatami sul letto, tesi il braccio per chiudere le cortine. Dio mio, che urlo! La notte, il silenzio, la quiete della notte, venne squarciata da un urlo selvaggio e acuto che percorse da un capo all'altro Thornfield Hall. Il battito del polso si fermò. Il cuore cessò di battere. Il mio braccio rimase come paralizzato. L'urlo si spense e non si ripetè. Chiunque fosse. L'essere che aveva lanciato quell'urlo terribile non lo avrebbe potuto subito ripetere. Neppure il più grande tra i condor delle ande avrebbe potuto, per due volte di seguito, emettere un grido simile dalla nuvola che copre il suo nido. L'essere che aveva lanciato quel suono doveva riposare prima di poter ripetere un tale sforzo. Veniva dal terzo piano perché era passato sopra di me. E sopra di me, sì, proprio nella camera sopra la mia, ora sentì una lotta. Una lotta mortale, si sarebbe detto dai suoni, e una voce soffocata gridò tre volte in rapida successione. Aiuto, aiuto, aiuto! Poi... Non viene nessuno, dunque! E mentre continuava il suono violento di passi e cadute, distinsi con chiarezza attraverso il soffitto. Rochester, Rochester, vieni per carità! Si aprì la porta di una camera. Qualcuno percorse correndo la galleria. Di sopra si sentì un altro passo, e qualcosa cadde. Poi, il silenzio. Mi ero vestita in fretta, sebbene fossi profondamente scossa dall'orrore. Uscì dalla mia stanza. Tutti intanto si erano svegliati. In ogni camera risuonavano esclamazioni, mormorie di terrore. Le porte si aprirono una dopo l'altra. Uno dopo l'altro gli ospiti si affacciarono. La galleria si riempì. Sia gli uomini, sia le donne, avevano lasciato i loro letti, e si sentivano da ogni parte domande confuse. Che c'è? Chi si è fatto male? Che cosa è successo? Prendete una candela! È scoppiato il fuoco! Ci sono i ladri! Dove possiamo andare? Se non ci fosse stata la luna, si sarebbero trovati nel buio più completo. Correvano di qua e di là, si raccoglievano in gruppo, qualcuno si inghiozzava, qualcuno rischiava di cadere. La confusione era inestricabile. Dove diavolo è, Rochester? Non è nel suo letto, gridò il colonnello Dent. Eccomi, eccomi, si sentì rispondere. State tranquilli, vengo. Si aprì la porta all'estremità della galleria e venne avanti il signor Rochester con una candela. Era appena sceso dal piano di sopra. Una delle signore gli corse subito incontro. Gli afferrò il braccio. Era la signorina Ingram. Che disastro è successo? chiese. Parlate, diteci subito il peggio. Ma non fatemi cadere, non strangolatemi, rispose dal momento che le signorine Ashton gli si erano avvinghiate e le due vedove, in ampie vesti da camera bianche, piombavano su di lui come bastimenti a vele spiegate. Va tutto bene, tutto bene, esclamò. Prendetelo come una prova di molto rumore per nulla. Signore, tenetevi lontane o divento pericoloso. E aveva infatti un aspetto pericoloso. Gli occhi neri mandavano lampi. Fatto uno sforzo per calmarsi, riprese. Una cameriera ha avuto un incubo nel sonno. Non c'è altro. È una donna eccitabile, nervosa. Ha creduto di vedere un'apparizione o qualcosa di simile e ha avuto una crisi di panico. E ora voglio vedervi tornare tutti nelle vostre camere. Finché la casa è sottosopra, nessuno può prendersi cura di lei. Signori, vogliate dare il buon esempio alle signore. E sono certo, signorina Ingram, che non mancherete di dimostrarvi superiore a queste vane paure. Emi, Luisa, tornate al vostro nido da quelle bianche colombe che siete. E voi, signore, rivolto alle due vedove, prenderete senza dubbio un raffreddore se rimarrete ancora in questa galleria gelida. Così, alternando gli ordini alle lusinghe, riuscì a farli rientrare nelle loro camere. Io non aspettai di ricevere l'ordine, ma rientrai senza essere stata notata, così come ero uscita. Ma non rientrai certo per dormire, cominciai anzi a vestirmi completamente. Probabilmente io soltanto avevo sentito il fracasso seguito all'urlo e le parole che erano state pronunciate, perché venivano dalla camera sopra la mia. Mi convincevano che non era stato l'incubo di una cameriera a gettare il panico in tutta la casa e che la spiegazione del signor Rochester era soltanto un'invenzione per calmare i suoi ospiti. Così mi vestì, per essere pronta per ogni evenienza. Poi rimasi a lungo seduta accanto alla finestra a guardare il giardino silenzioso, i campi illuminati dalla luna e ad aspettare senza sapere cosa. Mi sembrava che dopo quello strano grido, quella lotta, quel richiamo, dovesse succedere qualcosa. No. Tornò la calma. A poco a poco cessarono ogni rumore ed ogni movimento e in meno di un'ora Thornfield Hall era di nuovo silenziosa come un deserto. Sembrava che il sonno e la notte fossero tornati a dominare. Frattanto la luna tramontava e stava per scomparire. Per non rimanere seduta al freddo e all'oscurità decisi di sdraiarmi sul letto vestita comero. Mi allontanai dalla finestra e camminai silenziosamente sul tappeto. Mentre stavo per togliermi le scarpe senti battere con cautela alla porta. «C'è bisogno di me?» chiesi. «Siete alzata?» rispose la voce che aspettavo, quella del mio padrone. «Sì, signore». «E' vestita?» «Sì». «Allora uscite, senza far rumore». Obedì. Vidi il signor Rochester con una candela in mano. «Ho bisogno di voi», disse. «Seguitemi, fate con calma e in silenzio». Le mie pantofole erano leggere. Sul pavimento, coperto dalla stuoia, camminavo silenziosa come un gatto. Il signor Rochester scivolò lungo la galleria, salì le scale e si fermò nel corridoio basso, buio, del fatale terzo piano. Io lo seguì e mi fermai al suo fianco. «Avete una spugna in camera vostra?» mi chiese in un sussurro. «Sì, signore». «E dei sali?» «Sì». «Andate a prendere tutte e due le cose». Ritornai, cercai la spugna sul portacatino e i sali nel cassetto, e rifeci lo stesso percorso. Lui mi aspettava, aveva in mano una chiave. Avvicinatosi ad una porticina nera, infilò la chiave nella serratura, si fermò e mi rivolse di nuovo la parola. «Non vi sentite male alla vista del sangue?» «Credo di no, non ho mai provato». Sentì un brivido mentre gli rispondevo, ma non di debolezza né di freddo. «Datemi la mano», mi disse. «Non è il caso di rischiare uno svenimento proprio ora». Misì le dita nelle sue. «Calde e ferme», osservò. Poi girò la chiave e aprì la porta. Vidi una stanza che ricordai di avere già visto il giorno che la signora Fairfax mi aveva mostrato la casa. Era rivestita di tappezzeria, ma ora, in un punto, la tappezzeria era sollevata, e rivelava una porta che allora era rimasta nascosta. La porta era aperta e lasciava passare la luce della stanza attigua. Sentì un ringhio simile quasi a quello di un cane infuriato. Appoggiata la candela, il signor Rochester mi disse «Aspettate un momento», ed entrò nella stanza vicina. Uno scoppio di risa salutò il suo ingresso. Chiasso su all'inizio, si concluse con il diabolico «Haha!» di Grace Pool. C'era dunque lei là dentro. Il signor Rochester sistemò qualcosa senza parlare, sebbene sentissi qualcuno rivolgerglisi a bassa voce, poi uscì richiudendo la porta. «Qui, Jane», disse, ed io girai dall'altro lato di un grande letto, le cui cortine tirate nascondevano buona parte della stanza. A capo del letto c'era una poltrona, e sulla poltrona sedeva un uomo, completamente vestito, ma senza giacca. Era immobile, la testa abbandonata all'indietro e gli occhi chiusi. Il signor Rochester alzò la candela, ed io riconobbi in quel viso pallido, apparentemente inanimato, Mason, il forestiero. Vidi anche che la camicia, su un lato e su una manica, era tutta bagnata di sangue. «Reggete la candela», disse il signor Rochester, ed io la presi. Poi andò a prendere un catino d'acqua dal portacatino. «Reggete questo», disse. Io obbedì. Prese la spugna, la immerse nell'acqua e la passò su quel viso cadaverico. Mi chiese la bottiglia dei sali e glieli misi sotto le narici. Il signor Rochester aprì la camicia del ferito, che aveva il braccio e la spalla fasciati. Lavò via con la spugna il sangue che filtrava. «È molto grave», mormorò Mason. «Sciocchezze! No, non è grave, un semplice graffio. Non spaventarti, fatti coraggio. Vado io stesso a cercare un medico. Domani mattina potrai venire trasportato, spero». «Jane», continuò. «Signore? Dovrò lasciarvi un'ora o due in questa stanza con questo signore. detergetegli il sangue con la spugna, come faccio io, quando la ferita ricomincia a sanguinare. Se si sente svenire, mettetegli quel bicchiere d'acqua alle labbra e i sali alle narici. Non parlategli per nessuna ragione. E tu, Richard, se le parli, lo fai a rischio della tua vita. Se apri la bocca e ti agiti, non rispondo delle conseguenze». Il povero Mason tornò a lamentarsi. Non osava a muoversi. La paura della morte, o di qualche altra cosa, sembrava paralizzarlo. Il signor Rochester mi mise nelle mani la spugna ormai insanguinata ed io mi preparai a servirmene come aveva fatto lui. Mi guardò un istante, poi, dicendo «Ricordate, non dovete parlargli», lasciò la stanza. Provai una strana sensazione quando sentì la chiave girare nella porta e poi il rumore dei suoi passi che si allontanava e svaniva. Dunque ero al terzo piano, chiusa in una delle misteriose celle, attorno a me, la notte, davanti a me una scena di pallore e di sangue, e soltanto una porta che mi separava dall'assassina. Sì, questo era sconvolgente, il resto potevo sopportarlo, ma tremavo all'idea che Grace Pool mi si avventasse contro. Eppure dovevo rimanere al mio posto, dovevo vegliare quell'uomo livido come uno spettro, le labbra bluastre e immobili a cui era stato proibito di schiudersi. Gli occhi ora chiusi, ora aperti, ora irrequieti, che vagavano per la camera, ora fissi su di me, ma sempre vacui per l'orrore. Dovevo continuamente immergere la mano nella catinella d'acqua insanguinata e detergere il sangue che continuava a colare. Dovevo vedere la luce della candela prossima a spegnersi, le ombre che si infittivano sull'antica tappezzeria arabescata che mi circondava, che si incupivano sotto le cortine del grande letto, che tremavano in strane forme sugli sportelli di un guardaroba di fronte, divisi in dodici pannelli. Gli sportelli avevano scolpite, con un tratto cupo, le teste dei dodici apostoli, ognuna racchiusa in un pannello come in una cornice. Al di sopra, in alto, si innalzava un crocefisso di ebano con il Cristo agonizzante. E, seguendo il gioco delle ombre e della luce morente che si posava in questo o in quel punto, ora il barbuto medico, Luca, chinava la fronte, ora la lunga capigliatura di San Giovanni ondeggiava, e di quando in quando il viso diabolico di Giuda balzava fuori dal pannello, e sembrava animarsi e minacciare una rivelazione dell'arci traditore. Satana in persona sotto le spoglie del suo subordinato. E in questa situazione dovevo ascoltare, non soltanto guardare, tendere l'orecchio ai movimenti della belva o del demonio nella sua tana. Ma dal momento della visita del signor Rochester sembrava stregata. Per tutta la notte senti soltanto tre rumori, a lunghi intervalli. Lo scricchiolio di un passo, un breve ritorno di quel ringhio canino, e un profondo gemito umano. I miei pensieri mi turbavano. Quale delitto viveva incarnato in questa dimora isolata, che non poteva venir cacciato né dominato dal proprietario? Qual era il mistero che rompeva, ora nel fuoco, ora nel sangue, nelle ore più profonde della notte? Chi era la creatura che sotto le spoglie di una donna come tante altre, emetteva ora risate demoniache, ora all'urlo di un avvoltoio in cerca di carogne? E l'uomo che io assistevo, quel forestiero tranquillo, simile a tanti altri, com'era coinvolto in quella trama d'orrore? E perché la furia gli si era scagliata contro? Perché si era recato in quella parte della casa, ad un'ora tanto insolita, invece di dormire nel suo letto? Avevo sentito il signor Rochester assegnargli una stanza al piano di sotto. Che cosa l'aveva spinto quassù? E perché ora era così passivo sotto la violenza o il tradimento che aveva subito? Perché accettava così passivamente il segreto imposto dal signor Rochester? Perché il signor Rochester imponeva il segreto? Il suo ospite era stato aggredito, lui stesso poco tempo prima era stato in pericolo di vita per un odioso attentato. Eppure cercava soltanto di nascondere i due incidenti. Avevo visto che il signor Mason si lasciava influenzare da lui, che l'energica volontà del secondo dominava la debolezza del primo. Le poche parole che si erano scambiati me ne rendeva certa. Era chiaro che nella loro precedente amicizia la passività di Mason era stata abitualmente dominata dall'energia attiva dell'amico. Da cosa nasceva dunque lo smarrimento del signor Rochester quando aveva appreso l'arrivo di Mason? Perché il semplice nome di quell'essere debole, che ora obbediva alle sue parole come un bambino, l'aveva colpito, poche ore prima, come il fulmine colpisce una quercia? Non potevo dimenticare il suo sguardo e il suo pallore quando aveva sussurrato «Jane, è stato un colpo per me! Un grave colpo, Jane!». Ne potevo dimenticare come gli tremava il braccio quando si era appoggiato alla mia spalla. Non bastava una causa da poco per piegare lo spirito risoluto e indebolire la vigorosa struttura di Fairfax Rochester. «Quando arriverà? Quando arriverà?», invocavo interiormente, mentre la notte sembrava trascinarsi all'infinito e il mio paziente, che ancora sanguinava, gemeva, impalidiva, peggiorava, e né il giorno né l'aiuto giungevano. Avevo continuato a bagnare le labbra smorte di Mason, gli avevo fatto odorare i sali, ma i miei sforzi sembravano privi di risultato. Fosse la sofferenza fisica o spirituale o la perdita di sangue o tutte e tre le cose insieme, le sue energie rapidamente si consumavano. Gemeva e aveva un aspetto così debole e strano e sperduto, che temevo stesse per morire, e neppure potevo parlargli. La candela, consumata fino all'estremo, si spense. Osservai allora che una luce grigia orlava le tende della finestra. Albeggiava. In quel momento, dal lontano canile, sentì abbaiare Pilot. La speranza si riaccese. E non era infondata. Cinque minuti dopo, la chiave, girando nella serratura, mi avvertì che la mia veglia era finita. Non era durata più di due ore. Molte settimane mi erano sembrate più corte. Il signor Rochester entrò insieme al medico. Ora bisogna fare presto, Carter, gli disse. Vi do mezz'ora di tempo per disinfettare la ferita, fasciarla, portare giù il ferito, eccetera. Ma è in condizioni di essere trasportato, signore? Senza dubbio, non è niente di serio. È nervoso, ha bisogno di essere sostenuto. Presto mettetevi all'opera. Il signor Rochester tirò le pesanti cortine e sollevò la tenda per far entrare quanta più luce possibile. Fu per me una piacevole sorpresa vedere che l'alba era molto avanzata e che strisce rosate già illuminavano l'Oriente. Poi si avvicinò a Mason, a cui il medico stava già togliendo la benda. Come stai, amico mio? Temo sia finita per me, rispose debolmente Mason. Neppure per sogno. Coraggio, tra due settimane non ci penserai più. Hai perduto un po' di sangue, ecco tutto. Carter, ditegli che non corre pericolo. Posso farlo in coscienza, annui Carter, che aveva ormai srotolato tutte le bende. Peccato soltanto che io non sia arrivato prima, non avrebbe perso tanto sangue. Ma questo cos'è? La carne sulla spalla non è soltanto tagliata. Questa ferita non è stata fatta da un coltello. C'è il segno dei denti. Mi ha morso, mormorò lui. Si è avventata su di me come una tigre quando Rochester le ha tolto il coltello. Non avresti dovuto rimanere passivo, avresti dovuto lottare subito con lei, disse il signor Rochester. Ma in quelle circostanze che potevo fare? Ribatte Mason. Oh, è stato terribile, aggiunse con un brivido. Non me lo aspettavo, sembrava così tranquilla all'inizio. Ti avevo avvertito, ti avevo detto stai in guardia quando le vai vicino. Inoltre avresti potuto aspettare domani e andare con me. È stata una follia rischiare una visita di notte e da solo. Credevo di farle del bene. Credevi, credevi. Non posso sentirti parlare così, ma dato che hai sofferto e probabilmente soffrirai abbastanza per non aver seguito il mio consiglio, non aggiungo altro. Carter, presto, presto. Tra poco sorgerà il sole ed io devo farlo uscire di qui. Subito, signore, la spalla è già fasciata. Devo guardare l'altra ferita sul braccio, credo sia stato morso anche qui. Ha succhiato il sangue, ha detto che mi avrebbe prosciugato il cuore, disse Mason. Vedi il signor Rochester fremere. Una singola espressione di disgusto, di orrore, di odio, gli contraste il viso fin quasi a deformarlo. Ma disse soltanto, via Richard, non parlare e non badare alle sciocchezze che dice. Non ripeterle. Vorrei dimenticarle, fu la risposta. Le dimenticherai quando sarai lontano. Tornato a Spanish Town potrai pensare a lei come fosse morta e sepolta, o meglio, non dovrai affatto pensare a lei. Impossibile dimenticare questa notte. Ma sì, è possibile, un po' di coraggio, amico. Due ore fa ti credevi spacciato e adesso sei vivo e parli. Ecco, Carter ha finito, o quasi. In un momento ti rimetto a posto. Jane si rivolse a me per la prima volta da quando era entrato. Prendete questa chiave, scendete nella mia camera e andate al guardaroba. Dal primo cassetto prendete una camicia pulita e una cravatta e portatele subito qui. Andai, trovai gli indumenti richiesti e tornai portandoli. Ora, disse, andate dall'altro lato del letto, finché io lo vesto, ma non lasciate la stanza, posso avere ancora bisogno di voi. Obedì. Si muoveva qualcuno quando siete scesa, Jane? Mi chiese il signor Rochester. No, signore, era tutto tranquillo. Ti porteremo via senza difficoltà, Dick, e sarà meglio per te e per la povera creatura qui accanto. Ho fatto da tempo tutto il possibile per evitare lo scandalo e non vorrei che scoppiasse adesso. Ecco, Carter, aiutami a infilargli il panciotto. Dove hai lasciato il soprabito di pelliccia? So che non potresti percorrere neppure un chilometro senza in questo dannato clima gelido. In camera tua? Jane, correte nella stanza del signor Mason, quella vicina alla mia, e prendete il soprabito. Di nuovo corsi via, e tornai portando un immenso soprabito foderato e bordato di pelliccia. Ora ho un'altra incombenza per voi, mi disse il mio instancabile padrone. Dovete tornare in camera mia. È una fortuna, Jane, che abbiate pantofole di velluto. Una messaggera con gli zoccoli non farebbe al caso nostro. Dovete aprire il cassetto di mezzo della toletta e prendere una fialetta e un bicchiere che vi troverà. Presto. Corsi come se avessi le ali ai piedi per andare e tornare, riportando fialetta e bicchiere. Bene, ora dottore, mi prenderò la libertà di somministrare io una medicina sotto la mia responsabilità. Ho avuto questo cordiale a Roma da un ciarlatano italiano, un tipo che voi avreste preso a calci, Carter. È un rimedio di cui non si può abusare, ma in certe occasioni, come in questa, va bene. Jane, un po' d'acqua. Mi porse il bicchierino ed io lo riempì a metà dalla bottiglia sul portacatino. Così basterà. Ora aprite la fiala. Fece cadere una dozzina di gocce di un liquido scarlato nel bicchiere e lo diede a Mason. Bevi, Richard, ti rianimerà per un'ora circa. Ma mi farà male. È eccitante. Bevi, bevi. Il signor Mason obbedì, perché era palesemente inutile resistere. Ormai era vestito, ancora pallido, non era più macchiato di sangue. Il signor Rochester lo lasciò seduto ancora per tre minuti dopo averlo fatto bere, poi gli prese il braccio. Sono certo che ora puoi reggerti in piedi, disse. Prova. Il paziente si so. Carter, sostenetelo dall'altro lato. Un po' di energia, Richard. Cammina, ecco così. Mi sento davvero meglio, osservò Mason. Non ne dubito. Ora, Jane, procedeteci. Scendete dalla scala di servizio, togliete il catenaccio alla porticina di fianco e dite di tenersi pronto al cocchiere della vettura di posta che vedrete in cortile. O subito fuori, perché gli ho detto di non fare rumore con le ruote sulla pietra. Noi veniamo subito. Eh, Jane, se incontrate qualcuno, venite in fondo alla scala e tossite. Ormai erano le cinque passate e il sole stava per sorgere, ma la cucina era ancora buia e silenziosa. La porticina era sprangata, l'aprì facendo meno rumore possibile. Il cortile era completamente deserto, ma il cancello era spalancato e fuori stazionava una vettura, con i cavalli attaccati e il vetturino a cassetta. Mi avvicinai e gli dissi che i signori stavano arrivando. Lui annui. Poi mi guardai attentamente attorno e mi misi in ascolto. Ovunque regnava la pigra calma mattutina, nelle stanze della servitù le tende delle finestre erano ancora abbassate. Solo gli uccelli cominciavano a pigolare sugli alberi del frutteto biancheggianti di fiori. I cui rami pendevano in candide ghirlande sul muro che cintava un lato del cortile. Si sentivano a tratti i cavalli scalpitare nei loro stalli chiusi. Tutto il resto taceva. I signori arrivarono. Sostenuto dal signor Rochester e dal medico, Mason sembrava camminare senza troppa difficoltà. Lo fecero salire sulla carrozza. Poi salì anche Carter. «Prendetevi cura di lui», gli disse il signor Rochester. «E tenetelo a casa vostra fino a che non starà bene. Verrò tra un giorno o due a vedere come sta». «Come ti senti, Richard?» «L'aria fresca mi rianima, Fairfax». «Lasciate il finestrino aperto dalla sua parte, Carter. Non c'è vento. Arrivederci, Richard». «Fairfax». «Sì, che cosa c'è?» «Che si ha trattata con tutta la dolcezza possibile. Che...» Si interruppe e scoppiò in pianto. «Faccio del mio meglio. L'ho sempre fatto e lo farò», rispose il signor Rochester. Chiuse lo sportello della carrozza che si mise in moto. «Eppure vorrei che potesse finire», aggiunse il signor Rochester mentre chiudeva e sprangava il pesante cancello. Poi si diresse lentamente con aria assente verso la porta del muro di cinta del frutteto. Pensando non avesse più bisogno di me, mi preparavo a rientrare in casa, ma lo sentì chiamare ancora «Jane». Aveva aperto la porta e stava fermo ad aspettarmi. «Venite a ristorarvi un minuto dove c'è aria fresca», disse. «La casa è come una fortezza. Non lo sentite anche voi?» «Mi sembra una dimora splendida, signore». «Siete accecata dalla malia dell'inesperienza», rispose. «E la vedete attraverso un incantesimo. Non potete capire che le dorature sono bava di lumache e le tappezzerie di seta a ragnatele, che il marmo e vile ardesia e i legni lucenti schegge e corteccia. Qui, invece», e indicò il recinto ombreggiato in cui stavamo entrando, «Tutto è vero, dolce, puro». Camminava per un viale costeggiato da siepi di bosso, fiancheggiato da un lato da alberi di mele, pere, ciliegie, e dall'altro da una bordura di fiori all'antica, garofani e garofanini selvatici, primule, viole del pensiero, insieme all'artemisia, alla rosa canina e a varie erbe aromatiche. Erano freschi, della freschezza che potevano trarre da un susseguirsi di acquazioni e di schiarite di aprile, seguiti da una bella mattina primaverile. Il sole entrava nel cielo chiazzato di rosa, a oriente, e il suo fulgore illuminava gli alberi del frutteto umidi di rugiada e risplendeva sui tranquilli viali ai loro piedi. «Jane, volete un fiore?» Colse una rosa in boccio, la prima del cespuglio, e me la porse. «Grazie, signore. Vi piace quest'alba, Jane? Questo cielo a nuvole alte e leggere, che si dissolveranno quando il giorno si farà caldo? Questa atmosfera tranquilla e profumata?» «Sì, molto.» «Avete passato una strana notte, Jane.» «Sì, signore.» «Siete pallida. Avete avuto paura quando vi ho lasciato sola con Mason?» «Temevo che venisse qualcuno dalla stanza accanto.» «Ma io avevo chiuso la porta a chiave, e avevo la chiave in tasca. Sarei stato un pessimo pastore se avessi lasciato incustodito un agnello.» «Il mio agnello preferito, così vicino alla tana del lupo.» «Eravate al sicuro.» «Gracepul vivrà ancora qui, signore.» «Oh, sì. Ma non dovete preoccuparvi di lei. Dimenticate la cosa.» «Eppure mi sembra che la vostra vita non sia al sicuro finché lei rimane.» «Non abbiate paura. Starò in guardia.» «Il pericolo che temevate ieri sera ora è passato, signore.» «Non posso garantire nulla, finché Mason non avrà lasciato l'Inghilterra. E neppure allora.» «Per me, Jane, vivere è come stare sul cratere di un vulcano che può sputare fuoco e lava ad ogni momento.» «Ma il signor Mason sembra un uomo che si lascia facilmente guidare. Palesemente voi avete una grande influenza su di lui, non vi sfiderà mai, non vi farà mai volontariamente del male.» «No, infatti, Mason non mi sfiderà, né consapevolmente mi farà del male. Ma senza volerlo, per una parola imprudente, potrebbe, se non della vita, privarmi per sempre della felicità.» «Ditegli di essere prudente, ditegli che cosa temete e mostrategli come evitare il pericolo.» Lui rise di un riso amaro, poi afferrò e subito liberò la mia mano. «Se potessi agire così, mia piccola sciocca, dove sarebbe il pericolo? Annullato in un istante. Da quando ho conosciuto Mason è sempre bastato che gli dicessi di fare una cosa perché lui la facesse. Ma in questo caso non posso dargli ordini. Non posso dirgli «Sta attento a non nuocermi, Richard!» Perché l'essenziale è che lui non sappia che può nuocermi. Sembrate perplessa, ed io vi renderò ancora più perplessa. Siete la mia piccola amica, vero? Provo piacere a servirvi e ad obbedirvi in tutto quello che è giusto. Appunto, vedo bene che è così. Vedo un'autentica contentezza nel vostro passo, negli occhi e nel viso, quando mi aiutate e mi compiacete, quando lavorate per me e con me, in tutto quello che è giusto. Come avete detto in modo così caratteristico. Se io vi ordinassi qualcosa che voi ritenete male, non avreste più la rapidità del passo e del gesto, lo sguardo vivace e l'espressione animata. La mia amica si volgerebbe allora verso di me, pallida e quieta, e direbbe «No, signore, questo è impossibile, non posso farlo perché è male». E sarebbe irremovibile come una stella fissa. Vedete, anche voi avete un certo potere su di me e potete farmi del male. Eppure non oso mostrarvi il mio punto vulnerabile, nel timore che, sebbene fedele e amica, mi colpiate immediatamente. Se non avete da temere da Mason più di quanto abbiate da temere da me, siete al sicuro, signore. Dio lo voglia. Ecco, Jane, qui c'è un riparo. Sedete. Il riparo era un arco nel muro coperto di edera in cui si trovava un sedile rustico. Il signor Rochester lo occupò, lasciando spazio per me. Ma io rimasi in piedi. Sedete, ripetè. Il sedile è largo abbastanza per due. Perché esitate a sedermi accanto, Jane? Non è bene? Gli risposi sedendomi. Sarebbe stato poco saggio rifiutare. Ora, mia piccola amica, mentre il sole beve la rugiada, mentre tutti i fiori di questo vecchio giardino si svegliano e si aprono, e gli uccelli portano dai campi la colazione per i loro piccoli, e le api mattutine iniziano il loro lavoro, io vi sottoporrò un caso di coscienza. Cercate di immaginare che vi riguardi personalmente. Ma prima guardatemi e ditemi che vi sentite a vostro agio e che non temete che io faccia male a trattenervi o che voi facciate male a rimanere. No, signore, sono tranquilla. Allora, Jane, chiamate in aiuto la fantasia. Pensate di non essere più una ragazza allevata bene e disciplinata, ma un giovane ribelle viziato fin dall'infanzia. Immaginatevi in un paese lontano e immaginate di aver commesso un grave errore, non importa di quale natura o per quale ragione, ma un errore le cui conseguenze vi perseguiteranno per tutta la vita e corromperanno tutta la vostra esistenza. Badate bene, non parlo di un delitto, non parlo di sangue versato o di un'altra azione colpevole che potrebbe portare l'autore a risponderne davanti alla giustizia. Ho detto errore. A lungo andare le conseguenze vi sono diventate insopportabili. Cercate il modo per liberarvene. Misure insolite, ma non colpevoli né illegali. Ma continuate a sentirvi infelice perché proprio ai confini della vita la speranza vi ha abbandonato. Al mezzogiorno della vostra vita il sole per voi si è eclissato e capite che resterà così fino al tramonto. Tristi, meschini ricordi sono l'unico cibo della vostra memoria. Andate vagabondando cercando la quiete nell'esilio, la felicità nel piacere, l'arido piacere sensuale che ottunde la mente e spegne i sentimenti. Col cuore stanco e l'anima appassita tornate a casa dopo anni di esilio volontario. Conoscete una persona? Non importa dove e come. Scoprite in lei i doni di bontà e intelligenza che avevate in vano cercato per vent'anni. E sono freschi, intatti, puri, senza macchia. La compagnia di questa persona vi rigenera. Sentite che sono tornati i bei giorni, le nobili aspirazioni, i sentimenti puri. Volete ricominciare la vostra vita? E trascorrere i giorni che vi rimangono in modo più degno di un essere immortale. Per ottenere questo scopo vi è lecito scavalcare un ostacolo? Un impedimento puramente formale che non è giustificato dalla vostra coscienza né approvato dalla vostra mente? Si fermò, come per avere una risposta. Ma che cosa dovevo dirgli? Oh, se uno spirito buono mi avesse suggerito una risposta saggia e soddisfacente. Speranza vana. Il vento di occidente stormiva nell'edera attorno a me, ma nessun dolce ariele mi parlò attraverso il vento. Gli uccelli cantavano in cima agli alberi, ma il loro canto, per quanto dolce, era inarticolato. Il signor Rochester riprese a parlare. L'uomo vagabondo e peccatore, ora pentito e in cerca di pace, ha il diritto di sfidare l'opinione pubblica per legare a sé per sempre questa dolce, graziosa, affettuosa e stranea, ritrovando così la pace spirituale e rigenerando la sua vita. Signore, risposi, la pace di un uomo errante o la conversione di un peccatore non dovrebbero mai dipendere da una creatura umana. Gli uomini e le donne sono mortali, i filosofi mancano di saggezza e i cristiani di bontà. Se qualcuno che conoscete ha sofferto e sbagliato, deve guardare più in alto dei suoi simili per trovare la forza che purifica e guarisce le ferite. Ma lo strumento, lo strumento! Dio che compie l'opera vuole che ci sia uno strumento. Sono io, per parlare fuori di metafora, l'uomo mondano, dissoluto e irrequieto. Credo di aver trovato lo strumento della mia salvezza in... Tacque! Gli uccelli continuavano a cantare, le foglie a stormire lievemente. Quasi mi stupì che non cessassero i loro canti e i loro fruscii per ascoltare quella rivelazione interrotta, ma avrebbero dovuto attendere per molti minuti, tanto si protrasse il silenzio. Alla fine alzai lo sguardo all'uomo che tardava a parlare. Lui mi stava guardando con ardore. «Piccola mia!» disse in un tono profondamente diverso, mentre anche l'espressione del viso, prima dolce e grave, divenne dura e ironica. «Avete osservato la mia tenerezza per la signorina Ingram? Non pensate che se la sposassi mi rigenererebbe anche troppo?» Si alzò immediatamente, camminò fino alla fine del viale e quando tornò cantava a bassa voce un'aria. «Jane, Jane!» disse fermandomisi davanti. «Siete pallidissima per la veglia! Non mi mandate al diavolo per aver disturbato il vostro riposo?» «Andarvi al diavolo? No, signore!» Stringiamoci la mano per confermare queste parole. Che dita fredde! Erano più calde la notte scorsa quando le ho toccate davanti alla porta della camera misteriosa. «Jane, quando veglierete nuovamente con me?» «Quando potrò esservi utile, signore?» «Per esempio, la vigilia del mio matrimonio?» «Sono certo che non potrò dormire. Mi promettete di stare alzata a tenermi compagnia? Con voi posso parlare della mia amata, perché l'avete vista ora e la conoscete?» «Sì, signore.» «È una donna senza pari, vero, Jane?» «Sì, signore.» «Una donna imponente, Jane, grande, bruna, formosa, con i capelli come dovevano averli le donne cartaginesi.» «Povero me!» «Ecco Dante e Lynn nelle scuderie, rientrate dal boschetto attraverso il portoncino.» «Mentre mi dirigevo da una parte, lui si dirigeva dall'altra, e lo sentì nel cortile dire con vivacità.» «Mason vi ha preceduto tutti questa mattina, è partito prima del sorgere del sole. Mi sono alzato alle quattro per salutarlo.» Capitolo 21 I presentimenti sono cose strane, come le affinità e i presagi, e le tre cose costituiscono un mistero di cui l'umanità non ha trovato ancora la chiave. Non ho mai, in vita mia, riso dei presentimenti, perché ne ho avuti io stessa di singolari. Le affinità credo esistano, per esempio tra parenti lontani, assenti da molto tempo, ignoti gli uni agli altri. Esistono e affermano, a dispetto della separazione, l'unità della radice comune. E il loro meccanismo elude la comprensione umana. I presagi, per quel che ne sappiamo, potrebbero essere soltanto le affinità della natura con l'uomo. Avevo appena sei anni, quando una sera sentì Bessy Lieven dire a Martha Abbott che aveva sognato un neonato, e che sognare bambini piccoli è un presagio di sventura per sé o per qualche parente. Forse avrei dimenticato quell'affermazione, se una circostanza, immediatamente successiva, non me l'avesse impressa indelebilmente nella memoria. Il giorno dopo Bessy fu chiamata al letto della sorellina morente. Di recente avevo pensato spesso a quelle parole e a quella circostanza, perché nell'ultima settimana non c'era stata notte in cui non avessi sognato un bambino. A volte lo cullavo tra le braccia, a volte me lo facevo saltare sulle ginocchia, a volte lo guardavo giocare con le margherite in un prato, oppure bagnava le mani in un'acqua corrente. Una notte piangeva e un'altra notte rideva. Ora mi si rifugiava contro, ora fuggiva da me. Ma di qualsiasi umore sembrasse l'apparizione, qualsiasi aspetto avesse, per sette notti successive non era mai mancata all'appuntamento notturno nel momento in cui entravo nel sonno. Non mi piaceva quel ripetersi di una stessa idea, quello strano ricorso ad una stessa immagine, e quando si avvicinava l'ora di andare a letto, che mi avrebbe ricondotto la visione, mi sentivo turbata. Ero in compagnia del bimbo fantasma la notte di luna in cui ero stata svegliata dal grido. Nel pomeriggio del giorno seguente mi chiamarono perché qualcuno, nella stanza della signora Fairfax, chiedeva di me. Entrando trovai un uomo che all'aspetto sembrava un domestico. Era vestito a lutto e aveva in mano un cappello con una fascia di crespo nero. «Immagino che non vi ricordiate di me, signorina», disse alzandosi. «Mi chiamo Liven. Otto o nove anni fa, quando vivevate a Gateshead, ero cocchiere della signora Reed e sto ancora là». «Oh, Robert, come state? Mi ricordo benissimo di voi. Mi facevate qualche volta a cavalcare il pony della signorina Georgiana. E come sta, Bessie? Siete il marito di Bessie, vero?» «Sì, signorina. Mia moglie sta benissimo. Mi ha dato un altro bambino due mesi fa, e adesso sono tre. E la madre e il bambino stanno benissimo». «E in casa stanno tutti bene, Robert?» «Mi dispiace di non poter dare buone notizie, signorina. Ci sono gravi problemi in questo momento». «Spero che non sia morto nessuno», dissi guardando il vestito nero. Lui fisso il crespo del cappello. «Fa una settimana, ieri, che è morto il signor John nel suo appartamento di Londra». «Il signor John?» «Sì». «E la madre, come ha sopportato la sua morte?» «Vedete, signorina Eire, non si tratta di una disgrazia comune. Il signor John ha condotto una vita molto dissipata. In questi ultimi tre anni si è comportato in modo strano e ha fatto una brutta morte». «Avevo sentito dire da Bessie che non si comportava molto bene». «Non si comportava molto bene. Non avrebbe potuto fare di peggio. Si è rovinato la salute e ha dissipato la sua fortuna in compagnia degli uomini e delle donne peggiori. Si è coperto di debiti ed è finito in prigione. La madre l'ha tirato fuori due volte, ma lui, appena era libero, tornava ai vecchi compagni e alle vecchie abitudini. Non aveva una gran testa e le canaglie che aveva come compagni lo hanno imbrogliato in modo incredibile. È venuto a Gateshead tre settimane fa. Voleva che la signora gli consegnasse tutto. Lei ha rifiutato. Le sregolatezze del figlio avevano già molto ridotto le sue rendite. Così è tornato a Londra e poi si è saputo soltanto che era morto. Come sia morto non si sa. Dicono che si sia ucciso. Rimasi in silenzio. Le notizie erano terribili. Infine Robert Lee venne riprese. Già da qualche tempo la signora non stava bene, era diventata molto grassa, ma non per questo più robusta. E la perdita del denaro e la paura della povertà la distruggevano. La notizia della morte del signor John e di come era morto sono arrivate troppo improvvise. Ha avuto un colpo. È rimasta tre giorni senza parlare. Martedì scorso è sembrato stesse meglio. Pareva che volesse dire qualcosa e continuava a fare cenno a mia moglie e a balbettare tra sé. Ma soltanto ieri mattina Bessie ha capito che pronunciava il vostro nome e ha distinto queste parole. Porta qui Jane, va a prendere Jane e Irene, voglio parlarle. Bessie non era sicura che fosse in sé o che le sue parole avessero un senso, ma ne ha parlato alla signorina Reed e alla signorina Georgiana, consigliandole di mandarvi a chiamare. Loro prima hanno detto di no, ma di fronte alla crescente inquietudine della madre, che continuava a chiamare Jane, Jane, hanno infine acconsentito. Sono partito da Gaethje di ieri e, se vi è possibile, signorina, vorrei che ripartiste domani mattina presto con me. Sì, Robert, sarò pronta, mi sembra necessario andare. Lo credo anch'io, signorina. Bessie era sicura che voi non avreste rifiutato, ma immagino che dovrete chiedere il permesso prima di partire. Sì, lo chiederò subito. Così, dopo averlo accompagnato nei quartieri della servitù, affidandolo alle cure della moglie di John e dello stesso John, andai a cercare il signor Rochester. Non era in una delle stanze a pian terreno, non era nel cortile o nelle scuderie o nei campi. Chiesi alla signora Fairfax se lo aveva visto. Sì, le pareva fosse a giocare a biliardo con la signorina Ingram. Mi avviai verso la sala del biliardo, sentì lo schioccare delle palle e il bruissio delle voci. Il signor Rochester, la signorina Ingram, le due signorine Ashton e i loro ammiratori erano immersi nel gioco. Ci voleva coraggio per interrompere una compagnia così bene assortita. Tuttavia, la mia missione non poteva attendere, e quindi mi avvicinai al signor Rochester, in piedi accanto alla signorina Ingram. Vedendomi avvicinare, lei mi guardò sdegnosamente. I suoi occhi sembravano chiedere, che cosa vuole adesso questo essere strisciante? E quando io chiamai a bassa voce, signor Rochester. Lei fece un gesto come fosse tentata di mandarmi via. Ricordo il suo aspetto in quel momento, molto aggraziato ed elegante. Indossava un abito da mattina di crespo azzurro cielo. Una sciarpa di tulle azzurro era intrecciata tra i capelli. Era animata per il gioco e l'orgoglio irritato non nuoceva all'espressione dei suoi lineamenti alteri. Quella persona ha bisogno di voi? Chiese al signor Rochester, che si voltò per vedere chi fosse la persona. Fece una smorfia curiosa, una delle sue espressioni strane e ambivalenti. Gettò la stecca e mi seguì fuori dalla sala. Ebbene, Jane? Chiese, fermandosi con la schiena appoggiata alla porta della stanza da studio che aveva chiuso. Se non vi dispiace, signore, vi chiedo il permesso di assentarmi per una o due settimane. Per fare cosa? Per andare dove? Per visitare una signora ammalata che mi ha mandato a chiamare. Quale signora ammalata? Dove vive? A Gateshead, nello Shire. Nello Shire? E a più di centocinquanta chilometri. Chi è mai per chiedere che le si renda visita da così lontano? Si chiama Reed, signore, è la signora Reed. Reed di Gateshead? Un Reed di Gateshead era magistrato? È la sua vedova, signore. E che rapporto avete con lei? Come la conoscete? Il signor Reed era mio zio, il fratello di mia madre. Che diavolo, non me lo avete mai detto. Avete sempre affermato di non avere parenti. Nessuno che mi riconosca, signore. Il signor Reed è morto e sua moglie mi ha respinto. Perché? Perché ero povera ed ero un peso per lei e non aveva affetto per me. Ma Reed aveva dei figli? Dovete avere dei cugini. Sir George Lynn mi ha parlato ieri di un Reed di Gateshead che era uno dei peggiori libertini di Londra. E Ingram ricordava una georgiana Reed, anche lei di Gateshead, che una o due stagioni fa è stata molto ammirata a Londra per la sua bellezza. John Reed è morto, signore. Si è rovinato, ha quasi mandato in rovina la famiglia e pensano che si sia suicidato. La notizia è stata un tale colpo per la madre che è stata presa da un attacco apoplettico. E che bene potete farle. Sciocchezze, Jane. Non vi permetterò di fare tanti chilometri per andare da una vecchia signora che potrebbe essere morta prima del vostro arrivo. Inoltre dite che vi ha respinto. Sì, signore, mai stato molto tempo fa e quando la sua situazione era molto diversa. Non mi sentirei tranquilla se ora non eseguissi i suoi desideri. Quanto tempo vi fermerete? Il meno possibile, signore. Promettetemi di rimanere soltanto una settimana. Preferisco non fare promesse. Potrei vedermi costretta a non mantenerle. Ma tornerete? Non vi lascerete convincere per qualsiasi motivo a rimanere sempre con lei? Oh no, tornerò di sicuro se non mi accadrà niente. E chi vi accompagna? Non farete un viaggio così lungo da sola? No, signore, ha mandato a prendermi il suo cocchiere. È una persona di fiducia? Sì, signore, sono dieci anni che è con la famiglia. Il signor Rochester riflettè. Quando volete partire? Domani mattina presto, signore. Avrete bisogno di denaro. Non potete mettervi in viaggio senza denaro e immagino che ne abbiate poco. Non vi ho ancora mai dato il vostro stipendio. A quanto ammonta la vostra ricchezza, Jane? Chiese sorridendo. Tirai fuori il borsellino. Era smilzo. Cinque scellini, signore. Lui prese il borsellino, rovesciò le monete sul palmo della mano e rise come se la povertà della Somma lo divertisse. Subito prese il suo portafoglio. Ecco, disse offrendomi un biglietto. Erano cinquanta sterline e me ne doveva soltanto quindici. Gli dissi che non avevo il resto. Non voglio il resto, lo sapete bene. Prendete il vostro stipendio. Rifiutai di accettare più di quello che mi era dovuto. Sulle prime lui si irritò. Poi, come se avesse ricordato qualcosa, disse. Giusto, giusto. Meglio non darvi tutto adesso. Potreste rimanere tre mesi se aveste a disposizione cinquanta sterline. Eccone dieci. Non vi bastano? Sì, signore, ma me ne dovete ancora cinque. Ritornate a prenderle. Sarò la vostra banca fino alla somma di quaranta sterline. Signor Rochester, vorrei parlarvi di un'altra questione, adesso che ne ho la possibilità. Un'altra questione? Sono curioso. Mi avete praticamente detto, signore, che presto vi sposerete? Sì, e allora? In questo caso, signore, Adele dovrà andare in collegio. Sono certa che ne vedete la necessità. Per toglierla dai piedi della mia giovane sposa, che altrimenti potrebbe calpestarla in modo eccessivo. C'è del buonsenso in questo suggerimento. Adele, come voi dite, dovrà andare in collegio. E voi, naturalmente, dovrete andarvene... al diavolo? Spero di no, signore, ma dovrò cercarmi un altro posto. Naturalmente, esclamò, con un tono della voce e un'espressione contorta, bizzarri e grotteschi. Mi fissò per alcuni istanti. E la vecchia signora Reed, o le signorine e sue figlie, si sentiranno chiedere da voi di trovarvi un posto, immagino? No, signore, con i miei parenti non sono tanto in confidenza da poter chiedere dei favori, metterò un annuncio sul giornale. Come no, e magari scalerete le piramidi, grugni lui. Se metterete un annuncio, lo farete a vostro rischio e pericolo. Vorrei avervi dato soltanto una sovrana, invece di dieci sterline. Restituitemi nove sterline, Jane, ne ho bisogno. Anch'io, signore, ribattei, mettendo dietro la schiena il borsellino stretto tra le mani. Non posso privarmi di questi soldi. Che avara siete? Rifiutarmi una richiesta di denaro. Datemi cinque sterline, Jane. Neanche cinque scellini, signore, e neanche cinque penni. Lasciatemi soltanto guardare il vostro patrimonio. No, signore, non mi fido di voi. Jane. Signore, promettetemi una cosa. Vi farò qualsiasi promessa, signore, abbia la possibilità di mantenere. Non mettete un annuncio, affidatevi a me. Vi troverò io un posto al momento opportuno. Ve lo prometto con gioia, signore, se a vostra volta mi promettete che io e Adele saremo al sicuro fuori casa prima che entri qui vostra moglie. D'accordo, d'accordo. Vi do la mia parola. Dunque, partite domani? Sì, signore, di prima mattina. Scenderete in sala dopo pranzo? No, signore, devo prepararmi per il viaggio. Quindi dobbiamo separarci per un po' di tempo? Penso di sì, signore. E come viene compiuta la cerimonia della separazione, Jane? Insegnatemelo, non sono esperto. Si dice addio, ho la formula di saluto che si preferisce. Ditelo dunque. Addio, signor Rochester, per il momento. E io che cosa devo dire? La stessa cosa se volete, signore. Addio, signorina Eire, per il momento. Tutto qui? Sì. A me sembra avaro, arido, privo di amicizia. Vorrei qualcos'altro, una piccola aggiunta al rito. Se ci stringessimo la mano, per esempio? No, neppure questo mi soddisferebbe. Dunque non farete altro che dirmi addio, Jane? È abbastanza, signore. Si può mettere la propria benevolenza in una parola detta di cuore come in molte. Forse è vero. Ma addio, è vuoto e freddo. Per quanto tempo ancora rimarrà con la schiena contro la porta? Mi chiedevo. Devo cominciare a fare i bagagli. Suonò la campana del pranzo e lui fuggì via di colpo senza aggiungere una parola. Quel giorno non lo vidi più e la mattina dopo partì prima che si alzasse. Arrivai alla portineria di Gateshead verso le cinque pomeridiane del primo maggio. Lì mi fermai prima di proseguire per la casa. L'abitazione dei Leaven era ordinata e pulita, alle finestre ornamentali erano appese tendine bianche. Il pavimento non aveva una macchia, griglia e molla e paletta brillavano e il fuoco era acceso. Bessie sedeva vicino al cammino allattando il piccolo e Robert e sua sorella giocavano quietamente in un angolo. Dio vi benedica, sapevo che sareste venuta! Esclamò la signora Leaven appena entrati. Sì, risposi dopo averla abbracciata. Spero di non essere arrivata troppo tardi. Come sta la signora Reed? È ancora viva, spero. Sì, è ancora viva e più cosciente e tranquilla. Il dottore dice che potrà continuare così ancora una o due settimane, ma non pensa che potrà guarire. Ha parlato di me negli ultimi giorni? Vi ha nominato proprio questa mattina, esprimendo l'augurio che foste qui. Ma adesso dorme, o almeno dormiva dieci minuti fa, quando sono andata alla casa. Rimane in genere in una specie di sonnolenza tutto il pomeriggio e si sveglia verso le sei o le sette. Restate un'oretta qui, poi vi accompagnerò. Robert entrò in quel momento e Bessie posò il bambino addormentato nella culla e andò a salutare il marito. Poi insistette perché mi togliessi il cappello e prendessi il tè, poiché avevo l'aria pallida e stanca. Accettai con gioia la sua ospitalità e mi lasciai togliere cappello e mantello con la docile passività con cui mi lasciavo svestire da bambina. I ricordi dei vecchi tempi mi affollavano la mente, mentre la vedevo darsi da fare. Prendeva il vassoio con le tazze migliori, tagliava il pane e burro, tostava una ciambella e intanto dava al piccolo Robert o a Jane un buffetto o una scrollatina, come faceva un tempo con me. Con l'agilità e la bellezza, Bessie aveva conservato anche il suo caratterino. Quando vidi che il tè era pronto, feci per avvicinarmi al tavolo, ma Bessie mi ordinò di rimanere al mio posto con il tono autoritario di un tempo. Dovevo essere servita accanto al fuoco, disse, e mi mise davanti uno sgabello con la tazza e un piatto di fette tostate, proprio come faceva quando sistemava su una sedia della Nursery qualche ghiottoneria presa di nascosto. E, come allora, io sorrisi e le obbedì. Vole sapere se mi trovavo bene a Thornfield Hall e com'era la mia padrona. Quando le dissi che avevo un padrone, mi chiese se era un signore simpatico e se mi piaceva. Risposi che era piuttosto brutto, ma che era un gentiluomo, che mi trattava bene e che ero soddisfatta. Poi cominciai a descrivere l'allegra brigata che si era di recente riunita in casa. Bessie ascoltò con interesse quei particolari. Erano proprio di quelli che più le piacevano. Trascorse un'ora, Bessie mi ridia del cappello e il resto, e insieme lasciamo la portineria per la casa. Ero proprio in compagnia di Bessie, nove anni prima, quando ero scesa da quel viale che ora risalivo. In una buia, aspra, umida mattina di gennaio, avevo lasciato quella casa ostile con la disperazione e l'amarezza in cuore, sentendomi una fuorilegge, quasi una reproba, per raggiungere il gelido rifugio di Lovud, meta lontana, sconosciuta. Davanti a me vedevo ora la stessa casa ostile. Il mio futuro era ancora incerto, il mio cuore soffriva. Mi sentivo ancora una pellegrina sulla faccia della terra, ma avevo maggior fiducia in me stessa e nelle mie forze, e non ero più paralizzata dal terrore dell'oppressione. Si era ormai sanata la ferita dei torti che avevo subito. Si era spenta la fiamma del risentimento. «Andiamo prima in soggiorno», disse Bessie precedendomi nell'atrio. «Le signorine saranno là». Un momento dopo ero in quella stanza. I mobili erano quelli stessi della mattina in cui ero stata presentata al signor Brokelast. Anche il tappeto su cui egli stava in piedi copriva ancora il pavimento. Gettando uno sguardo agli scaffali dei libri mi sembrò di scorgere i due volumi degli Uccelli d'Inghilterra di Bewick sempre a loro posto, nel terzo scaffale, e subito sotto i viaggi di Gulliver e le Mille e una notte. Il tempo non aveva mutato gli oggetti, ma aveva reso quasi irriconoscibili gli esseri viventi. Vidi davanti a me due giovani donne, una molto alta, quasi come la signorina Ingram, magra, con un colorito opaco e un'aria severa. C'era qualcosa di ascetico nel suo sguardo, accentuato dall'estrema semplicità del vestito nero senza pieghe, del colletto di lino inamidato, dei capelli ravviati all'indietro, dell'ornamento monacale, un rosario di ebano con un crocefisso. Ero certa di avere davanti a me Elisa, sebbene non riconoscessi i lineamenti che ricordavo in quel viso lungo e incolore. L'altra doveva essere georgiana, ma non quale io la ricordavo, l'esile ragazzina undicenne dall'incanto fatato. Ora era una giovane donna piena, chiara come una bambola, con bei lineamenti regolari, languidi occhi azzurri e riccioli biondi. Era vestita anche lei di nero, ma il taglio del vestito, ricco e armonioso, lo rendeva elegante quanto l'altro era severo. Tutte e due avevano un tratto del viso in cui somigliavano alla madre, e uno solo. La magra e pallida figlia maggiore aveva gli occhi duri e scintillanti della madre. La fiorente e rigogliosa sorella più giovane aveva il disegno della mascella e del mento, forse un poco addolcito, ma che, ciò nonostante, dava indescrivibile durezza ad una fisionomia altrimenti voluttuosa e piena. Al mio ingresso tutte e due si alzarono per accogliermi e mi chiamarono Signorina Eire. Elisa mi salutò in modo più breve, asciutto, senza un sorriso. Poi tornò a sedersi, fisso gli occhi sul fuoco e sembrò dimenticarmi. Georgiana aggiunse al suo, come state? Alcuni luoghi comuni sul viaggio, sul tempo, eccetera, parlando in modo strascicato e accompagnando le parole con sguardi obliqui che mi esaminavano dalla testa ai piedi, ora oltrepassando le pieghe del mio modesto mantello di lana, ora fermandosi sulla semplice guarnizione del mio cappellino. Le giovani donne sono molto abili nel farvi sentire ridicole senza pronunciare una sola parola. Uno sguardo svegnoso, modi freddi, un tono non curante della voce esprimono perfettamente la loro opinione in materia, senza costringerle ad un'autentica scortesia nelle parole o nei gesti. Ma ora lo scherno, esplicito o velato, non aveva su di me il potere di una volta. Mentre sedevo tra le mie cugine, mi stupiva capire che la completa indifferenza dell'una e le attenzioni ironiche dell'altra non mi mettevano a disagio. Eliza non riusciva a mortificarmi, Georgiana non riusciva a irritarmi. Il fatto è che avevo altre cose a cui pensare. Gli ultimi mesi avevano fatto nascere in me sentimenti ben più potenti di quelli che loro potevano suscitare. Tene e piaceri erano nati in me tanto più acuti ed estremi di quelli che sarebbe stato in loro potere infliggere o donare che i loro modi non mi facevano alcun effetto. Come sta la signora Reed? Chiesi subito, guardando con calma Georgiana. E lei credete bene offendersi di quella domanda diretta come si trattasse di un'inattesa libertà. La signora Reed? Ah, volete dire la mamma? Sta molto male, non credo che possa vedervi questa sera. Se vorrete andare di sopra, ribattei, e dirle che sono arrivata ve ne sarò molto grata. Georgiana quasi sussultò e spalancò gli occhi arroganti. Ho saputo che aveva un desiderio particolare di vedermi, aggiunsi, e non vorrei farla attendere ancora. Alla mamma non piace essere disturbata di sera? Osservò Eliza. Poco dopo io mi alzai, mi tolsi con calma cappello e guanti senza essere invitata a farlo, e dissi che sarei andata da Bessie, che certamente era in cucina, a chiederle di informarsi se la signora Reed poteva ricevermi. Uscì, trovai Bessie, la mandai a informarsi e decisi di pensare anche al resto. Ero abituata a fuggire davanti all'arroganza. Un anno prima, se fossi stata ricevuta come ero stata ricevuta oggi, avrei deciso di lasciare Gaethje della mattina successiva. Ora capì immediatamente che sarebbe stato sciocco. Avevo fatto un viaggio di più di 150 chilometri per vedere mia zia, e dovevo rimanerle accanto, finché non fosse stata meglio o non fosse morta. Quanto all'orgoglio o all'insipienza delle sue figlie, dovevo non tenerne conto, rendermene indipendente. Così mi rivolsi alla governante, le chiesi di indicarmi una camera, aggiungendo che probabilmente mi sarei fermata una o due settimane. Feci trasportare il mio bagaglio nella stanza, e vi andai io stessa. Incontrai Bessie sul pianerottolo. La signora è sveglia? Disse. Le ho detto che siete qui, andiamo a vedere se vi riconosce. Non mi era necessaria una guida per andare nella camera che conoscevo bene. Quella camera in cui un tempo ero stata tanto spesso chiamata per ricevere castighi o rimproveri. Oltrepassai Bessie, aprì silenziosamente la porta. Sul tavolino c'era una luce velata, perché ormai era buio. Vidi il grande letto a baldacchino di un tempo, con le cortine color ambra, e la toletta, l'armadio, la poltrona, lo sgabello su cui centinaia di volte mi era stato ordinato di inginocchiarmi per chiedere perdono di colpe che non avevo commesso. Guardai in un certo angolo, aspettandomi quasi di vedere lo smilzo profilo della canna, un tempo temuta, che si annidava là, pronta a balzare fuori come un folletto e a colpirmi sulla mano tremante o sul collo che cercava di ripararsi. Mi avvicinai al letto, aprì le cortine e mi chinai sulla pila di cuscini. Ricordavo bene il viso della signora Reed e cercai ansiosamente l'immagine familiare. È una fortuna che il tempo smorzi il desiderio di vendetta e plachi gli impulsi di rabia e di avversione. Avevo lasciato quella donna con l'amarezza e l'odio nel cuore, e ritornavo ora senza altro sentimento, se non una sorta di compassione per le sue gravi sofferenze, e il desiderio di dimenticare e perdonare le offese e stringerle la mano in segno di amicizia. Vidi il viso ben noto, rigido, duro come sempre, quello sguardo che nulla poteva raddolcire, la fronte ampia, imperiosa, dispotica. Quante volte si era chinata su di me in un gesto di minaccia e di odio. E come rivivevo, ritrovando quelle linee aspre, il ricordo dei terrori e delle pene infantili. Eppure mi chinai e la baciai. Lei mi guardò. E Janeire? chiese. Sì, zia Reed. Come state, cara zia? Una volta mi ero ripromessa di non chiamarla mai più con quel nome. Pensai che dimenticare e infrangere quella promessa non fosse una colpa. Le mie dita si erano strette sulla mano che giaceva abbandonata sul lenzuolo. Se lei avesse stretto con affetto la mia, avrei provato in quel momento un sincero piacere. Ma le nature fredde non si addolciscono facilmente, né le antipatie spontanee sono facili da sradicare. La signora Reed ritrasse la mano e distolse il viso, e osservò che la sera era calda. Poi mi guardò di nuovo, così freddamente da farmi comprendere subito che la sua opinione di me e i suoi sentimenti per me erano immutati e immutabili. Capì dal suo sguardo di pietra, chiuso alla tenerezza, impenetrabile alle lacrime, che era decisa a giudicarmi cattiva fino all'ultimo, perché credermi buona non le avrebbe procurato un generoso piacere, soltanto un senso di mortificazione. Prima sentì pena, poi collera, e infine la volontà di piegarla, di dominarla a dispetto della sua natura e della sua volontà. Mi erano salite agli occhi le lacrime, come al tempo della mia infanzia. Vogli ricacciarle indietro? Portai una sedia a capo del letto, sedetti, e mi chinai su di lei. — Mi avete mandato a chiamare? — dissi. — E sono qui. Intendo rimanere qui finché non vedrò come state. — Oh, naturalmente. Hai visto le mie figlie? — Sì. — Bene, puoi informarle che desidero tu rimanga qui, fino a che io possa parlarti di alcune cose che mi opprimono. Questa sera è troppo tardi, fatico a ricordarle, ma c'era qualcosa che volevo dirti. Vediamo. Lo sguardo vago, il mutamento della voce, dicevano quale devastazione avesse subito quell'organismo, un tempo vigoroso. Girandosi inquieta nel letto, si strinse nelle coperte. Con un gomito io trattenevo un angolo del piumino. Subito si irritò. — Sta su dritta, disse. Non infastidirmi trattenendo le coperte. — Sei Janeyre? — Sì. È incredibile quale tormento mi ha dato quella bambina. È stata un tale peso per me, e mi procurava tali fastidi giorno per giorno, ora per ora, con il suo temperamento incomprensibile, i suoi improvvisi scoppi di collera, e quel continuo, innaturale, osservare i movimenti degli altri. Una volta mi parlò proprio come una pazza, o come un demonio. Mai una bambina ha parlato o guardato come lei. Sono stata contenta di poterla mandare fuori di casa. Che cosa ne hanno fatto a Lobud? C'è stata un'epidemia e molte scolari morirono. Ma lei non morì. Però io dissi che era morta. Vorrei lo fosse davvero. — Uno strano desiderio, signora Reed. Perché la odiate tanto? Avevo antipatia per sua madre, era l'unica sorella di mio marito, a cui era molto cara. La difese quando la famiglia la rinnegò perché aveva fatto un matrimonio svantaggioso, e quando seppe della sua morte pianse come uno sciocco. Vole ad ogni costo mandare a prendere la bambina, sebbene io lo pregassi di metterla piuttosto a balia e di pagare per il suo mantenimento. Odiai fin dal primo momento quel lesserino malaticcio, triste, che piangeva sempre. Piangeva nella sua culla la notte intera. Non urlava a gola spiegata come qualsiasi altro bambino, ma gemeva e vagiva. Reed ne aveva pietà, e la consolava e si curava di lei come fosse stata sua figlia, ben più di come si curasse dei suoi veri figli a quella stessa età. Voleva che i miei figli avessero affetto per quella piccola mendicante. I miei piccoli tesori non la potevano soffrire, e lui andava in collera con loro quando dimostravano la loro antipatia. Nel corso della sua ultima malattia se la faceva portare continuamente al capezzale, e un'ora prima di morire mi ha fatto promettere solennemente di tenerla con me. Piuttosto avrei preferito prendermi cura di un bambino povero dell'ospizio. Ma Reed era un debole, debole per natura. John non assomiglia affatto a suo padre, e ne sono contenta. John assomiglia a me e ai miei fratelli. È un vero Gibson. Oh, vorrei solo che smettesse di tormentarmi con quelle richieste di denaro. Non ne ho più da dargli, siamo diventati poveri. Devo licenziare metà della servitù e chiudere parte della casa. O affittarla. Non potrò mai decidermi a farlo, ma come potremo andare avanti? Due terzi delle mie rendite vanno per pagare gli interessi delle ipoteche. John gioca in modo orribile e perde sempre, povero ragazzo. È circondato da imbroglioni, è sceso molto in basso, si è degradato. Ha uno sguardo che fa paura. Quando lo vedo, mi vergogno per lui. Stava agitandosi troppo. Credo sia meglio lasciarla adesso, disse a Bessie, in piedi all'altro lato del letto. Forse sì, signorina, ma verso sera parla spesso così. La mattina è più calma. Mi alzai. Fermati, esclamò la signora Reed. C'è un'altra cosa che voglio dirti. Mi minaccia, mi minaccia continuamente di uccidersi. O di uccidermi. Io lo sogno qualche volta con una larga ferita alla gola, o con il viso gonfio e tu me fatto. Sono in un momento difficile, ho gravi preoccupazioni. Che cosa devo fare? Come trovare il denaro? Bessie cercò allora di convincerla a prendere un calmante. Ci riuscì a fatica. Poco dopo la signora Reed si calmò e si assopì, ed io la lasciai. Trascorsero più di dieci giorni prima che potessi parlarle di nuovo. Passava dal delirio al soppore e il dottore proibiva qualsiasi fonte di emozione. Io frattanto vivevo come potevo con Georgiana ed Eliza. All'inizio rimassero entrambe molto fredde. Eliza passava quasi tutta la giornata a cucire, a leggere e a scrivere e rivolgeva appena la parola a me o a sua sorella. Georgiana parlava per ore con il suo canarino senza curarsi di me. Ma io avevo deciso di non farmi mancare occupazioni e distrazioni. Avevo portato con me il necessario per disegnare che mi serviva a raggiungere entrambi gli scopi. Munita delle scatole delle matite e di qualche foglio, sedevo di solito lontano da loro, accanto alla finestra, e schizzavo immagini di fantasia rappresentando qualsiasi scena prendesse di volta in volta forma nel caleidoscopio dell'immaginazione. Uno scorcio di mare tra due scogli, una nave in cammino sullo sfondo della luna, un folto di canne e di iridi palustri, da cui usciva una testa di naiade in coronata di fiori. Un elfo seduto in un nido di rondine sotto una ghirlanda di biancospino in fiore. Una mattina cominciai a disegnare un viso. Non mi curavo di sapere quale viso, e non lo sapevo. Presi una matita nera, morbida, le feci bene la punta, e lavorai senza fermarmi. Subito tracciai sul foglio una fronte ampia e sporgente, mascelle e mento dalla linea forte. Il contorno del viso mi piacque. Le dita cominciarono senza incertezza a completarlo con i lineamenti. Sotto quella fronte dovevano essere tracciate sopracciglia dritte, fortemente marcate. Poi seguì, del tutto naturalmente, un naso ben modellato, dalla linea dritta e dalle narici piene. Poi una bella bocca sinuosa, poi un mento deciso, diviso da una fossetta. Era certo necessario aggiungere basette scure ed una capigliatura nera e lucente, a ciuffo sulle tempie e ondulata sulla fronte. Mancavano gli occhi. Li avevo lasciati per ultimi, perché era la parte che richiedeva più attenzione. Li feci grandi, ben disegnati. Tracciai le ciglia lunghe e folte, l'iride larga e luminosa. Bene, ma non molto somiglianti, temo. Pensai, esaminando il risultato. Ci vuole più energia e vivacità. Rinforzai le ombre perché la luce risaltasse maggiormente. Con uno o due tocchi felici raggiunsi un buon risultato. E vidi sotto il mio sguardo un viso amico. Che importava se le due signorine si comportavano in modo brusco con me? Io guardavo il ritratto, sorridevo a quell'immagine espressiva. Ero assorta e soddisfatta. È il ritratto di un vostro conoscente? Chiese Elisa, che si era avvicinata senza che me ne accorgessi. Risposi che era soltanto una testa di fantasia e mi affrettai a mettere il foglio sotto gli altri. Naturalmente avevo mentito, era un'immagine molto fedele del signor Rochester. Ma che cosa poteva importare a lei o a chiunque se non a me? Anche Giorgiana si era avvicinata a guardare. Le piacquero molto gli altri disegni, ma disse che la testa raffigurava un uomo brutto. Entrambe parvero sorprese della mia abilità. Mi offrì di fare il loro ritratto e ciascuna, a turno, posò per un disegno. Poi Giorgiana mi die del suo album dei ricordi. Le promisi di disegnarle un acquerello, il che la mise di buon umore. Mi propose di fare insieme una passeggiata. Nel giro di due ore la conversazione aveva preso un tono molto confidenziale. Giorgiana mi aveva elargito la descrizione del brillante inverno trascorso a Londra due anni prima, dell'ammirazione e del successo che aveva ottenuto, delle attenzioni che aveva ricevuto, e accennò anche all'aristocratica conquista che aveva fatto. Il pomeriggio e la sera quelle allusioni divennero più esplicite e ricche di particolari. Mi vennero riferite tenere conversazioni e narrate scene sentimentali. In breve, quel giorno ebbi diritto ad un intero volume di un romanzo sulla buona società, narrato a mio esclusivo beneficio. I due giorni successivi vi furono nuove rivelazioni, sempre sullo stesso argomento. Lei, i suoi amori, le sue pene. Era strano che non parlasse mai della malattia di sua madre o della morte del fratello o delle tristi prospettive della famiglia. Sembrava presa interamente dal ricordo delle gioie passate e dalla speranza di divertimenti futuri. Restava cinque minuti al giorno, non di più, nella stanza dell'ammalata. Eliza parlava sempre poco, palesemente non aveva tempo di parlare. Non ho mai visto una persona dall'aria più indaffarata. Eppure non era facile dire che cosa facesse, o meglio, scoprire il risultato delle sue attività. Si faceva svegliare presto da una sveglia, non so che cosa la occupasse prima di colazione, ma dopo colazione il suo tempo era diviso ordinatamente in modo che ogni ora avesse uno scopo preciso. Tre volte al giorno studiava un libro che si rivelò un libro liturgico. Una volta le chiesi che cosa soprattutto la interessasse in quel libro, e lei rispose, la rubrica. Nota, la rubrica è la parte del Book of Common Prayer che indica come debbano venire condotti gli uffici divini. Spesso è stampata in rosso. Passava tre ore bordando con filo d'oro un quadrato di stoffa scarlatta, grande quasi come un tappeto. Quando le chiesi a che cosa servisse, rispose che era una coperta d'altare per una nuova chiesa costruita di recente vicino a Geicid. Consacrava due ore al diario, due ore a lavorare da sola nell'orto, ed una a fare i conti. Sembrava non sentire il bisogno di compagnia né di conversazione. Credo che a suo modo fosse felice. La routine della sua vita la soddisfaceva, e nulla la infastidiva tanto quanto qualsiasi evento la costringesse ad alterare quella meccanica regolarità. Una sera, in cui doveva sentirsi più comunicativa del solito, mi disse che la condotta di John e la rovina che minacciava la famiglia, erano state per lei fonte di profonda afflizione. Ma ora aveva ritrovato la pace e aveva deciso del suo avvenire. Si era preoccupata di mettere al sicuro la sua fortuna personale, e quando sua madre fosse morta, era assolutamente improbabile, disse tranquillamente, che guarisse o vivesse ancora a lungo, avrebbe realizzato un progetto che accarezzava da lungo tempo. Cercare un rifugio dove era certa di non veder turbate le sue abitudini metodiche e innalzare una barriera sicura tra se stessa e un mondo frivolo. Le chiesi se Georgiana l'avrebbe accompagnata. No di certo, lei e Georgiana non avevano nulla in comune, né mai l'avevano avuto. A nessun prezzo si sarebbe accollata la sua compagnia. Georgiana avrebbe preso la sua strada, e lei la propria. Georgiana, quando non mi apriva il suo cuore, passava gran parte del tempo distesa sul divano, lamentandosi della tristezza della casa e augurandosi continuamente che la zia Gibson la invitasse in città. Quanto sarebbe stato meglio che la togliesse di là per un mese o due finché non fosse tutto finito? Non le chiesi che cosa intendesse con quel che tutto sia finito, ma immagino si riferisse all'imminente morte della madre e del triste seguito dei riti funebri. Eliza in genere non badava all'indolenza e ai lamenti della sorella, come se neppure avesse davanti agli occhi quella fonte di brontolì e pegrizia. Ma un giorno, mentre riponeva i suoi conti e spiegava il ricamo, improvvisamente le si rivolse. Georgiana, non c'è mai stato sulla faccia della terra un essere più vano e irragionevole di te. Non hai il diritto di stare al mondo perché non fai nulla della tua vita. Invece di vivere per te, in te e con te stessa, come dovrebbe fare un essere ragionevole, cerchi solo di accollare la tua debolezza alla forza di qualche altra persona. Poiché non si trova nessuno pronto a caricarsi il fardello di un essere così grasso, debole e inutile, ti lamenti di essere maltrattata, trascurata, infelice. Se la vita non è un susseguirsi di novità e di piaceri, per te il mondo è una prigione. Vuoi essere ammirata, corteggiata, adulata? Vuoi che ci siano musica, balli, compagnia? O languisci e ti consumi? Non sei in grado di formulare un sistema che ti renda indipendente da sforzi e volontà che non siano tuoi? Prendi una giornata, dividila in tante parti, ad ogni parte assegna un compito. Non lasciare oziosi neppure i quarti d'ora, i dieci, i cinque minuti. Calcola tutto. Fa ogni cosa a turno con metodo, con rigorosa regolarità. E il giorno finirà quasi prima che tu ti accorga che hai iniziato. E non dovrai a nessuno di averti aiutato a liberarti anche di un solo momento ozioso. Non avrai dovuto cercare la compagnia di nessuno, la conversazione, la simpatia, la pazienza di nessuno. In breve avrai vissuto come dovrebbe vivere una creatura indipendente. Ascolta questo mio consiglio, il primo e l'ultimo che ti offro, e non avrai più bisogno né di me né di nessuno, qualunque cosa accada. Trascuralo, continua a vivere come hai vissuto finora, piena di desideri, dei lamenti, di picrizia, e dovrai pagare lo scotto della tua stoltezza, per quanto triste e insopportabile possa essere. Ti parlo con chiarezza. Ascoltami. Non ripeterò più quello che sto per dirti, ma agirò seguendo rigorosamente le mie parole. Dopo la morte di mia madre, mi laverò le mani di te. Dal giorno in cui la sua bara verrà deposta nella cripta della chiesa di Gateshead, noi due saremo separate, come se non ci fossimo mai conosciute. Non pensare, soltanto perché per un caso siamo nate dagli stessi genitori, di poter avere su di me il più piccolo diritto. Ti dirò una cosa, se tutto il genere umano, a eccezione di noi due, venisse spazzato dalla faccia della terra, io ti lascerei nel vecchio mondo e me ne andrei nel nuovo. Chiuse la bocca. Avresti potuto risparmiarti questa tirata, rispose Giorgiana. Tutti sanno che sei l'essere più egoista e senza cuore del mondo, e quanto a me, conosco bene il dispetto e l'odio che hai per me. Ne ho avuto una prova nel tiro che mi hai giocato con Lord Edwin Vare. Non tolleravi che ti diventassi superiore, che avessi un titolo, che venissi ricevuta in ambienti in cui tu non oseresti neppure mostrarti. E hai fatto la spia, e hai rovinato per sempre le mie speranze. Giorgiana prese il fazzoletto e si soffiò il naso per un'ora. Fredda e impassibile, Eliza continuò a lavorare senza interrompersi. È vero, alcuni danno ben poco peso all'intensità del sentimento, ma davanti a me vedevo due nature, rese l'una insopportabilmente acida, l'altra vergognosamente insipida, dalla mancanza di sentimento. Il sentimento, senza la ragione, è una bevanda anacquata. Ma la ragione non temperata dal sentimento è un bucone troppo amaro e indigesto per lo stomaco umano. In un pomeriggio di vento e pioggia, Georgiana si era addormentata sul divano leggendo un romanzo. Eliza era andata a una funzione della nuova chiesa, perché in fatto di religione era una rigida formalista. Il tempo non le impediva mai di compiere tutte quelle devozioni che considerava doverose. Con la pioggia o con il sole andava in chiesa tre volte la domenica e durante la settimana tutte le volte che c'era una funzione. Pensai di andare di sopra a vedere come stava la morente, che rimaneva quasi abbandonata a se stessa. Persino i domestici la assistevano con molta irregolarità e l'infermiera, poco sorvegliata, lasciava la stanza appena poteva. Bessi rimaneva fedele, ma doveva pensare alla famiglia e poteva venire solo ogni tanto alla casa. Come mi aspettavo, trovai la stanza della malata incustodita. Non c'era nessuna infermiera, la paziente giaceva immobile in un apparente sopore, il viso livido affondato nei cuscini, il fuoco si andava spegnendo. Ravvivai il fuoco, sistemai le coperte, la guardai, mentre lei non poteva vedermi, e poi mi avvicinai alla finestra. La pioggia batteva violenta contro i vetri, il vento soffiava tempestoso. C'è qui una creatura, pensai, che presto sarà oltre la battaglia degli elementi, dove andrà il suo spirito che ora lotta per liberarsi dall'involucro materiale, quando verrà infine liberato. Riflettendo su quel grande mistero, pensai ad Ellen Barnes. Ricordai le sue ultime parole, la sua fede, la sua convinzione dell'eguaglianza di tutte le anime disincarnate. Stavo ancora ascoltando nel pensiero la sua voce, che ricordavo così bene, e immaginando il suo aspetto pallido e spirituale, il suo viso devastato e lo sguardo sublime, mentre giaceva serena sul letto di morte e mi sussurrava l'ansia di venire ricondotta nel seno del Padre Divino, quando una voce debole mormorò dal letto alle mie spalle. «Chi c'è?» Sapevo che da giorni la signora Reed non parlava. Stava tornando in vita? Mi avvicinai. «Sono io, zia Reed.» «Chi io? Chi sei?» aggiunse, guardandomi con stupore e con una sorta di ansia, ma senza panico. «Sei un'estranea. Dov'è, Bessie?» «È in portineria, zia.» «Zia?» Ripetè. «Chi mi chiama, zia? Non sei una Gibson. Eppure ti conosco. Quel viso, quegli occhi, quella fronte mi sono familiari. Assomigli... sì, assomigli a Jane Eyre.» «Tacqui!» Temevo di procurarle un'emozione troppo forte dichiarando la mia identità. «Sì.» Riprese. «Temo di ingannarmi.» «I miei pensieri mi ingannano. Volevo vedere Jane Eyre e immagino una somiglianza inesistente. Inoltre, in otto anni deve essere cambiata.» A questo punto le dissi con dolcezza che ero proprio la persona che lei credeva e desiderava io fossi. Vedendo che aveva capito e che era cosciente, le spiegai che il marito di Bessie era venuto a prendermi a Thornfield. «Sono molto ammalata, lo so», disse quasi subito. «Ho cercato di voltarmi qualche minuto fa e ho scoperto che non posso muovermi. È bene che io liberi il mio spirito prima di morire. Quello a cui non diamo peso quando siamo sani ci opprime in momenti come questo. C'è l'infermiera o qualcun altro nella stanza oltre a te?» Le assicurai che eravamo sole. «Ecco, per due volte ti ho fatto torto e ora lo rimpiango. La prima volta quando non ho mantenuto la promessa fatta a mio marito di allevarti come una figlia. L'altra si interruppe. «In fondo non è forse tanto importante», mormorò tra sé. «E potrei sempre guarire e umiliarmi così davanti a te, penoso». Fece uno sforzo per cambiare posizione, ma non ci riuscì. Il suo viso si alterò, come se provasse una sensazione interna, annunciatrice, forse, dell'ultimo spasimo. «Ebbene, devo concludere. Davanti a me si spalanca l'eternità. È meglio parlare. Va al mio armadio, aprilo e prendi la lettera che ci troverai». Seguì le sue indicazioni. «Leggi la lettera», disse. Molto breve, la lettera diceva. «Signora, vogliate avere la bontà di mandarmi l'indirizzo di mia nipote, Jane Eyre, e di dirmi come sta. Intendo scriverle tra poco tempo e chiederle di venire da me a Madera. La provvidenza ha benedetto i miei sforzi per ottenere la giatezza, e non avendo né moglie né figli, desidero adottarla e lasciarle alla mia morte tutto quello che avrò. Sinceramente vostro, John Eyre, da Madera». La lettera portava la data di tre anni prima. «Perché non ne ho mai saputo niente?» chiesi. «Perché avevo per te una versione troppo profonda e assoluta per aiutarti a raggiungere la prosperità. Non potevo dimenticare come ti sei comportata con me, Jane. Con quanta rabbia una volta ti sei ribellata. Il tono con cui hai affermato che io ero la persona che più aborrivi al mondo. Lo sguardo e la voce, che non avevano nulla di infantile, con cui hai dichiarato che soltanto pensare a me ti faceva star male e che ti avevo trattato con indegna crudeltà. Non potevo dimenticare le mie sensazioni quando a un tratto hai rovesciato su di me il veleno della tua anima. Ho provato paura, come se un animale che io avevo colpito o urtato mi avesse guardato con occhi umani e maledetto con una voce umana. Portami un po' d'acqua, o presto!» «Cara signora Reed», dissi porgendole l'acqua, «non pensate più a queste cose, cancellatele dalla mente. Perdonate la violenza delle mie parole, ero una bambina allora. Da quel giorno sono passati otto, nove anni.» Lei non prestò alcuna attenzione alle mie parole. Bev riprese fiato e continuò. «Ti ho detto che non potevo dimenticarlo e mi sono vendicata. Non avrei potuto sopportare che tu venissi adottata da tuo zio e ti trovassi in condizioni di serenità e agiatezza. Gli ho scritto, dicendogli che mi dispiaceva per la sua delusione, ma Janeire era morta, morta di tifo all'Ovud. Ora fa quello che credi. Scrivi per contraddire le mie parole. Rivela la mia menzogna anche subito, se vuoi. Credo tu sia nata per essere il mio tormento. La mia ultima ora è avvelenata dal ricordo di un'azione che non sarei mai stata tentata di commettere, se non fosse stato per te. Se soltanto poteste convincervi a non pensarci più, zia, a considerarmi con bontà e indulgenza. «Tu hai una natura pessima», riprese, «che anche ora non riesco a comprendere. Come tu abbia potuto essere paziente e accettare passivamente il modo in cui ti trattavo, per nove anni, e al decimo anno esplodere con tanto fuoco e violenza. Davvero non riesco a comprenderlo». «La mia natura non è cattiva, come credete. Sono passionale, non vendicativa. Quante volte, da bambina, avrei voluto amarvi, se me lo aveste permesso, e ora desidero sinceramente riconciliarmi con voi. Datemi un bacio, zia». Avvicinai la guancia alle sue labbra. Lei non la sfiorò. Mi disse che la soffocavo appoggiandomi al letto e mi chiese di nuovo un po' d'acqua. Quando la adagiòi nuovamente, perché l'avevo sollevata e sorretta con il braccio mentre beveva, misi la mano sulla sua mano, fredda e sudata. Le sue dita deboli si ritrassero al mio contatto e gli occhi vitrei evitarono il mio sguardo. «Amatemi, allora, o odiatemi come più vi piace», dissi infine. «Io vi perdono liberamente e pienamente. Chiedete il perdono di Dio e siate in pace». Povera donna, con tutte le sue sofferenze. Ormai era troppo tardi perché potesse fare lo sforzo di cambiare la disposizione del suo animo. Mentre era in vita, mi aveva sempre odiato. Davanti alla morte, continuava ad odiarmi. Entrò l'infermiera, seguita da Bessie. Mi fermai ancora per mezz'ora, sperando di scorgere qualche segno di riconciliazione. Ma non ne diede alcuno. Ricade nel torpore e non riprese più i sensi. A mezzanotte morì. Nel momento in cui chiuse gli occhi, non eravamo presenti né io né le sue figlie. Vennero la mattina dopo a dirci che tutto era finito. L'avevano già vestita. Io ed Eliza salimmo a vederla. Georgiana, che era scoppiata in un gran pianto, ci disse che non ne aveva il coraggio. La spoglia terrena di Sarah Reed, un tempo forte e attiva, giaceva rigida e immobile. Le palpebre fredde coprivano gli occhi di pietra. La fronte e i lineamenti forti conservavano ancora l'impronta del suo animo inesorabile. Quel cadavere per me aveva qualcosa di strano e solenne. Lo guardai con tristezza, con dolore. Non mi ispirò alcun sentimento tenero, dolce, compassionevole. Alcuna speranza o mestizia. Soltanto una pena aspra per quello che lei aveva sofferto. Non per quello che io con lei avevo perduto. E un tetro sgomento senza lacrime davanti allo spettacolo pauroso di una simile morte. Eliza guardò sua madre con calma. Dopo alcuni momenti di silenzio disse, con una costituzione come la sua avrebbe potuto vivere fino a tarda età. I dolori le hanno accorciato la vita. Poi uno spasmo le contrasse per un istante la bocca. Passò subito e lei si voltò e uscì. Io la seguì. Nessuna di noi due aveva versato una lacrima. Capitolo 22 Il signor Rochester mi aveva dato soltanto una settimana di permesso. Passò invece un mese prima che lasciassi Gateshead. Intendevo partire subito dopo il suo funerale, ma Georgiana mi pregò di rimanere finché lei non fosse andata a Londra, dove era infine stata invitata dallo zio, il signor Gibson, che era venuto per organizzare il funerale della sorella e sistemare gli affari di famiglia. Georgiana affermava di temere il momento in cui fosse rimasta sola con Eliza. La sorella non le offriva né simpatia per la perdita subita, né appoggio contro le sue paure, né aiuto nei suoi preparativi. Sopportai dunque come meglio potevo le sue lamentele infantili, egoistiche, e feci il possibile per cucire e sistemare nei bagagli i suoi vestiti. Lei, a dire la verità, mentre io lavoravo oziava, ed io pensai, cara cugina, se dovessimo vivere sempre insieme, comincieremo subito in modo molto diverso. Non accetterei la parte di vittima comprensiva e indulgente, ti assegnerei la tua quota di lavoro e farei in modo che tu la facessi, altrimenti non la farebbe nessuno. Ti obbligherei, inoltre, a tenere per te quei lamenti perenni e in parte falsi. Se accetto di essere paziente e arrendevole è soltanto perché il nostro incontro è dei più passeggeri e avviene in un momento particolarmente triste. Infine Georgiana partì, ma fu allora Elisa a chiedermi di rimanere un'altra settimana. Doveva dedicare tutto il tempo e l'attenzione, diceva, alla preparazione del suo futuro. Stava per partire per una meta sconosciuta e per tutto il giorno restava chiusa a chiave in camera sua a riempire pauli, vuotare cassetti, bruciare carte, senza parlare con nessuno. Voleva che dirigessi io la casa, ricevessi i visitatori, rispondessi alle lettere di condoglianze. Una mattina mi disse che ero libera. E, aggiunse, vi sono grata per il vostro prezioso aiuto e per la vostra discrezione. Vivere con qualcuno come voi è molto diverso dal vivere con Georgiana. Voi fate il vostro dovere nella vita e non siete di peso a nessuno. Domani, continuò, parto per il continente. Andrò a vivere in una casa religiosa nei pressi di Lisle. Voi direste un convento. La sarò tranquilla e indisturbata. Per qualche tempo mi dedicherò allo studio dei dogmi e alle pratiche della religione cattolica. Se troverò, come in parte già penso, che è la religione più adatta a far sì che ogni cosa venga compiuta con dignità e ordine, ne abbraccerò la dottrina e probabilmente prenderò il velo. Non espressi sorpresa per quella decisione né tentai di dissuaderla. La vocazione religiosa ti va a pennello, pensai, e buon protifaccia. Quando ci separammo mi disse, addio, cugina Janeire, vi faccio i miei auguri, avete buonsenso voi. Neppure voi ne siete priva, risposi, cugina Eliza, ma immagino che quello che possedete, tra un anno, sarà chiuso tra le mura di un convento francese, ma la cosa non mi riguarda e se per voi va bene non mi importa molto. Avete ragione, disse, e con queste parole ognuna aprise la propria strada. Poiché non avrò più occasione di parlare di lei o di sua sorella, dirò subito che Georgiana fece un buon matrimonio, con un uomo alla moda, ricco e blasé, e che Eliza prese il velo, e oggi è superiore a del convento in cui fece il noviziato e che dotò dei suoi beni. Ignoravo che cosa si prova quando si torna a casa dopo una breve o lunga assenza. Non mi ero mai trovata in tale situazione. Sapevo che cosa significava tornare a Gateshead dopo una lunga passeggiata, quando ero bambina, e venir rimproverata perché avevo l'aria infreddolita e triste. E, più tardi, che cosa significava tornare a Lovewood dalla chiesa, desiderare un buon pasto e un buon fuoco, e non trovare né l'uno né l'altro. In nessun caso il ritorno era stato molto piacevole o desiderabile. Nessuna calamita mi attirava verso un punto preciso, facendosi tanto più forte quanto più io mi avvicinavo. Dovevo ancora provare che cosa avrebbe significato il ritorno a Thornfield. Il viaggio mi sembrò noioso, molto noioso. Metà percorso è il primo giorno, una notte passata in una locanda, l'altra metà il giorno successivo. Nel corso delle prime dodici ore pensai agli ultimi istanti della signora Reed. Vedevo il viso livido, disfatto, sentivo la sua voce stranamente cambiata. Rievocai il giorno del funerale, la vara, la sepoltura, il nero corteo dei domestici e dei fittavoli. I parenti erano pochi. La cripta, la chiesa silenziosa, la cerimonia funebre. Poi pensai ad Eliza e a Giorgiana. Immaginavo l'una chiusa nella cela di un convento, l'altra trionfare in una sala da ballo, e mi misi a riflettere, ad esaminare le caratteristiche diverse della loro persona e del loro carattere. L'arrivo alla città di... la sera, dissipò quei pensieri, e nel corso della notte presero un'altra direzione. Sdraiata nel letto della locanda, abbandonai il passato per volgermi al futuro. Stavo tornando a Tornfield. Per quanto tempo? Senza dubbio non per molto. Durante la mia assenza avevo avuto notizie dalla signora Fairfax. La compagnia si era sciolta, il signor Rochester era partito per Londra tre settimane prima, ma era atteso entro quindici giorni. Doveva essere andato, immaginava la signora Fairfax, a fare i preparativi per il suo matrimonio, poiché aveva parlato dell'acquisto di una nuova carrozza. Lei trovava ancora strana l'idea che egli dovesse sposare la signorina Ingram, ma da quello che tutti dicevano, e che lei stessa vedeva, non poteva dubitare che il matrimonio avrebbe presto avuto luogo. Siete davvero incredula, se potete dubitarne? Pensavo. Quanto a me ne sono certa. Seguì poi la domanda, dove andrò? Tutta la notte sognai la signorina Ingram, nella lucidità di un sogno mattutino la vidi chiudere innanzi a me il cancello di Tornfield e indicarmi con un ceno della mano un'altra strada. Il signor Rochester ci guardava entrambe a braccia concerte, sorridendo ironicamente. Non avevo scritto alla signora Fairfax il giorno esatto del mio rientro. Non volevo che mandasse a prendermi a Milcott. Preferivo fare tranquillamente la strada a piedi, e lasciato il bagaglio al locandiere, verso le sei di una sera di giugno, uscì infatti molto tranquillamente dalla locanda e presi la vecchia strada per Tornfield. Una strada che attraversava quasi sempre i campi, poco frequentata a quell'ora. Era una sera estiva, calda e serena, ma non particolarmente limpida e luminosa. Lungo la strada erano a lavoro i falciatori. Il cielo, a dispetto di qualche nuvola, prometteva bel tempo. Dove l'azzurro era visibile era tenero e fermo, e gli strati di nuvole erano alti, vaporosi. Anche l'occidente era caldo, nessun bagliore di pioggia lo raffreddava. Sembrava vi fosse acceso un fuoco, un ruogo ardente dietro la cortina di vapori variegati, dalle cui fessure splendeva un rosso dorato. Mi sentivo felice, mentre la strada davanti a me si accorciava. Tanto felice che una volta mi fermai per chiedermi che cosa significasse quella felicità, per ricordarmi che non stavo andando verso casa mia, o verso una casa in cui sarei rimasta per sempre, o in cui mi attendessero con ansia amici affettuosi. La signora Fairfax, certo, pensai, mi accoglierà con il suo sorriso placido, e la piccola Adele batterà le mani e farà salti di gioia. Ma tu pensi a qualcun altro, lo sai bene, e sai che lui non pensa a te. Ma esiste qualcosa che sia più ostinato della gioventù, più cieco dell'inesperienza? E l'inesperienza e gioventù mi dicevano che era già un grande piacere avere il privilegio di tornare a guardare il signor Rochester, che egli guardasse o non guardasse me, e aggiungevo, affrettati, affrettati, sta con lui finché puoi, ancora pochi giorni o al massimo settimane, e sarai separata da lui per sempre. Allora io soffocai un'angoscia appena nata, un aborto deforme che non osavo riconoscere e nutrire, e proseguì correndo il mio cammino. Anche nei campi di Thornfield i falciatori sono a lavoro, o piuttosto stanno giusto lasciando il lavoro e tornando a casa coi rastrelli in spalla. Ormai, all'ora in cui siamo, devo passare soltanto per uno o due campi, poi attraverserò la strada e sarò al cancello. Le siepi sono piene di rose, ma non ho tempo di coglierle, voglio arrivare presto. Oltrepasso un cespuglio alto che proietta sul sentiero i rami carichi di foglie e fiori, vedo la piccola staccionata con i gradini di pietra, e vedo... il signor Rochester, seduto sulla staccionata, con un libro e una matita in mano. Sta scrivendo. Certo non è un fantasma, eppure mi sento inarvitesi. Per un istante perdo il controllo di me. Per quale ragione? Non pensavo che avrei tremato così, vedendolo, che avrei perso la facoltà di parlare o di muovermi in sua presenza. Tornerò indietro appena potrò muovermi, non devo rendermi ridicola. Conosco un'altra strada per arrivare, tanto valeva ne conoscessi altrimenti, perché lui mi ha visto. Salve! esclama, e alza il libro e la matita. Eccovi qua! Venite, venite, prego! Vado verso di lui, non so come. Non avverto i miei movimenti, e mi preoccupo solo di sembrare calma, soprattutto di dominare i muscoli del viso, che si ribellano con insolenza alla mia volontà e lottano per esprimere quello che io ho deciso di nascondere. Ma ho un velo, e lo abbasso sul viso. Posso ancora riuscire a comportarmi con decorosa calma. Siete proprio voi, Jane e i re? Venite da Milcott a piedi? Sì, ecco un'altra delle vostre trovate. Non mandare a chiedere la carrozza, arrivando lungo la strada con un grande strepito di ruote come una comune mortale, ma scivolare silenziosa nei dintorni di casa insieme al tramonto, come un sogno o un'ombra. Che diavolo avete fatto in questo mese? Sono stata con mia zia, signore, che è morta. Risposta tipica di Jane, che gli angeli mi proteggano. Viene dall'altro mondo, dalla dimora dei morti, e me lo dice qui nella penombra e mentre sono solo. Che folletto siete! Se osassi, vi toccherei per vedere se siete reale o un'ombra, ma tanto varrebbe che io cercassi di afferrare l'azzurra luce di un fuoco fatuo in una palude. Ah, avete marinato la scuola, vergogna! aggiunse dopo un istante. Lontana da me per un mese intero, e mi avete completamente dimenticato, ci scommetto. Sapevo che sarebbe stato un piacere rivedere il mio padrone, nonostante il timore che presto cesserebbe di essere tale e la convinzione di non rappresentare nulla per lui. Ma c'era sempre, nel signor Rochester, o così mi sembrava, una tale capacità di comunicare gioia che anche le briciole che gettava gli uccelli estranei e sperduti come me costituivano un banchetto sontuoso. Le sue ultime parole furono un balsamo per me. Implicitamente dicevano che gli importava che io l'avessi o non l'avessi dimenticato. E aveva parlato di Thornfield come della mia casa, se soltanto lo fosse stata davvero. Non si alzava dalla staccionata ed io non volevo chiedergli di lasciarmi passare. Gli chiesi se era stato a Londra. Sì, immagino che lo sappiate grazie al dono della visione. Me lo ha scritto la signora Fairfax. E vi ha detto che cosa sono andato a fare? Oh sì, signore, tutti ne erano al corrente. Dovete vedere la carrozza, Jane, e dirmi se non pensate sia perfetta per la signora Rochester. E se appoggiata a quei cuscini color porpora non sembrerà la regina Boadicea. Vorrei, Jane, che il mio aspetto fosse più adatto al suo. Ditemi, voi che siete una fata, potete farmi un incantesimo o darmi un filtro o qualcosa per farmi diventare bello? Supera il potere della magia, signore? E dentro di me aggiunsi. Bastano per questo due occhi innamorati. Per loro siete bello, o piuttosto, la sprezza del vostro viso è ben più che bella. Il signor Rochester aveva qualche volta letto nei miei pensieri, con una penetrazione per me inspiegabile. Ora non si curò della mia risposta brusca, ma mi sorrise, con un suo sorriso speciale che aveva soltanto in rare occasioni. Quasi gli sembrasse troppo prezioso per servirsene sempre. Era un vero raggio di sole, ed ora si distendeva su di me. Passate, Jane, disse, lasciandomi lo spazio per scavalcare la staccionata. Andate a casa e riposate i piedini stanchi su una soglia amica. Ora non dovevo fare altro che obbedire in silenzio. Non avevo motivo di continuare la conversazione. Scavalcai la staccionata senza una parola, decisa ad andarmene quietamente. Un impulso mi trattenne, una forza mi costrinse a avvolgermi. Dissi, o qualcosa in me disse al posto mio e mio malgrado. Grazie, signor Rochester, della vostra gentilezza. Sono così felice di essere tornata da voi. Dovunque voi siate, là è la mia casa, la mia sola casa. Continuai a camminare così in fretta che neppure lui sarebbe riuscito a raggiungermi se lo avesse voluto. La piccola Adele impazzì di gioia vedendomi. La signora Fairfax mi accolse con la sua consueta, semplice amicizia. Lea mi sorrise e anche Sophie mi disse «Bonsoir», con aria allegra. Era un autentico piacere. Non c'è felicità più grande di quella di essere amati dai propri simili e di sentire che la nostra presenza è per loro una gioia. Quella sera rifiutai decisamente di guardare al futuro. Non voglio ascoltare la voce che mi parlava della separazione prossima, del dolore che mi aspettava. Dopo il tè, dopo che la signora Fairfax aveva preso il lavoro a maglia e che io mi ero seduta accanto a lei su una seggiola bassa, e Adele, inginocchiata sul tappeto, mi si era rannicchiata contro e con senso di reciproco affetto sembrava circondarci con una dorata aura di pace, io pregai silenziosamente perché non dovessimo venire separati troppo presto. Ma quando, mentre noi stavamo così insieme, il signor Rochester entrò improvvisamente, e guardandoci sembro provare piacere alla vista di quel gruppo amichevole, quando disse che senza dubbio la vecchia signora era tranquilla, ora che aveva riavuto accanto la sua figlia adottiva, e aggiunse che Adele sembrava proprio «Pretta crocchessa petite maman anglaise», io mi azzardai quasi a sperare che, anche dopo il suo matrimonio, egli ci avrebbe tenute insieme in qualche luogo, sotto la sua ala protettiva, e non ci avrebbe esiliate completamente dal sole della sua presenza. Al mio ritorno a Thornfield seguirono due settimane di calma relativa. Del matrimonio del padrone non si parlava, e non vedevo fare preparativi. Quasi tutti i giorni chiedevo alla signora Fairfax se aveva sentito che si fosse presa una decisione. Lei rispondeva sempre di no. Una volta, mi disse, aveva esplicitamente chiesto al signor Rochester quando avrebbe portato a casa la sposa, ma lui aveva risposto soltanto con una frase scherzosa, accompagnata da uno dei suoi strani sguardi, e lei non sapeva che cosa pensarne. Una cosa soprattutto mi sorprendeva, che non ci fossero andi rivieni, visite a Ingram Park. C'erano più di trenta chilometri, è vero, al confine con un'altra contea, ma per un ardente innamorato che cosa poteva mai essere quella distanza? Per un cavallerizzo esperto e instancabile come il signor Rochester sarebbe bastata una mattina. Cominciai ad accarezzare speranze che non avevo il diritto di nutrire, che il fidanzamento fosse stato rotto, che le voci fossero false, che l'uno o l'altra aveva cambiato idea. Guardavo il viso del mio padrone per vedere se fosse triste o in collera, ma non ricordavo di averlo mai visto così costantemente privo di nubi o di amarezza. Se, nei momenti che io e la mia allieva passavamo con lui, mi sentivo abbattuta e cadevo in un inevitabile scoraggiamento, diventava addirittura allegro. Mai mi aveva chiamata tanto spesso alla sua presenza. Mai era stato più gentile con me quando ero con lui. Eh, ahimè, mai lo avevo tanto amato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.